Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, bentornati agli affezionati. Io mi chiamo Lia e mi occupo di astrologia evolutiva. Benvenuti alla settimana dal 31 gennaio, benvenuti alla settimana dell'oroscopo in chiave evolutiva, della settimana dal 31 gennaio al 7 febbraio. Ma questa settimana è una settimana molto interessante, che continua il trend di quella precedente. Prima di andare a guardare eventi astronomici per eventi astronomici, quindi singolarmente, volevo ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere informati di tutti i prossimi nuovi video in uscita e se vi piacciono questi contenuti, condivideteli nei social per aiutarmi a far crescere Stars and the City. Volevo ringraziarvi per la grande crescita del canale, che ha superato da poco i 10.000 follower, grazie a voi, grazie veramente di cuore. Ma veniamo all'analisi di questo cielo che sembra in qualche modo consacrare più o meno il trend di questa settimana e dargli anche una svolta. Allora so che vi siete appassionati alle previsioni di carattere collettivo, quelle sociali, sapete con Mercurio retrogrado sicuramente per esempio il caso di Berlusconi è stato eclatante, cioè eclatante era stato facile in realtà, questo volevo dire, cioè era una previsione che balzava talmente agli occhi che non ci voleva molto a capire il trend. Gli altri nomi, allora a parte il fatto che per quando uscirà questo video potrebbero, diciamo i giochi politici che si stanno verificando nel nostro paese, potrebbero già essere stati compiuti, no? E magari potrebbe essere spuntato dal nulla un nome per le elezioni del Presidente della Repubblica che non era mai stato fatto prima. E' già successo anche con il precedente Presidente Mattarella, che il nome è spuntato dopo vari tentativi all'ultimo minuto ed è stato fatto. Quindi sono sempre delle cose putoniane, no? Un po' sommersi, un po' irregolari, poi con Mercurio retrogrado, Venere retrograda, insomma, Marte in Capricorno. Le sorprese potrebbero essere molte, ma noi ci proviamo. Allora, innanzitutto io sono sempre più convinta, adesso sembrerò ingenua perché magari è una cosa risaputa e io non la so, che davvero le elezioni, insomma i grandi eventi politici, siano stabiliti forse veramente insieme al parere di qualche bravo astrologo. Perché il 24 gennaio, l'inizio delle elezioni, no? Dello scrutinio, era proprio il giorno in cui Marte, il signore della lotta, dell'energia, ma anche della forza, entrava innanzitutto in Capricorno, che è il segno che riguarda le istituzioni, no? Lo Stato, il potere, il potere, quindi sono iniziati il 24 gennaio dei veri e propri giochi di potere e c'era anche la luna in bilancia, ok? Quindi poi Marte in Capricorno è in ottimo, è a casa sua, no? È un'ottima combinazione. Si sa che Marte ha dei segni in cui è debilitato, ad esempio il cancro, ad esempio la bilancia, ad esempio il toro, ma in Capricorno, come nel segno dell'Ariete o come nel segno dello Scorpione, tende a dare il meglio di sé. Quindi insomma speriamo che si esprima. Devo dire che con Mercurio retrogrado in Capricorno, congiunto a Plutone e Venere retrograda, se le cose tardano un po' ad accadere, quando Marte raggiungerà questi pianeti, perché al momento è davvero al primo grado, no? Quindi deve ancora raggiungere, è in ottimo aspetto con Giove, però deve ancora, ce ne vuole, prima che raggiunga Mercurio e Venere. Venere ce la fa sicuramente. Se le cose si attardano per un po', è probabile che il Repulisti, no? Della scena politica che è iniziato con il Cavaliere, con Silvio Berlusconi, continui, che quindi magari altri nomi, ovviamente alzo le mani, no? Metto le mani avanti, per le ragioni più disparate, ok? Non soltanto per problemi di salute, insomma ci mancherebbe. Per le ragioni più disparate, se questa cosa va avanti, no? Se si protrae un po' di più, magari anche verso la prossima settimana, magari anche sul finire di questa, però parliamo già del 7 febbraio, magari lo scenario politico potrebbe essere ancora più ripulito. Perché? Perché è vero che la data, no? È stata pensata bene, io non so chi stabilisca veramente le date, no? Di queste date importanti, questo calendario importante di questi avvenimenti, però volevo dire che non solo il 24 gennaio c'era Marte che indica proprio il potere, le istituzioni, il governo, c'era anche la luna in bilancia. C'era la luna in bilancia, quella proprio della giustizia, della legge. Quindi, qualora fosse stata una casualità, era una casualità quasi incredibile, no? Perché sembrava veramente ad arte. Quindi stavamo dicendo, questo è uno scenario che se Marte raggiunge i pianeti retrogradi riuscirà a pulire. Sappiamo che i pianeti del segno del Capricorno, soprattutto Marte, Plutone, sono pianeti selettivi, no? Estremamente selettivi. Quindi, estremamente stabili. Quindi, se questa cosa si protrae un po' di più, insomma, anche in soltanto una settimana, potremmo avere dei colpi di scena, ok? Quindi questa è più o meno la cosa. Io credo che nelle giornate fra il primo febbraio e il quattro febbraio in realtà qualcosa potrebbe accadere, cioè le cose si potrebbero velocizzare improvvisamente. Perché? Perché il primo febbraio abbiamo la luna nuova in acquario, congiunta al sole e congiunta a Saturno, che è il signore del karma e che a sua volta è legato alle istituzioni. Quindi il panorama potrebbe cambiare, visto che il segno uraniano molto velocemente, e potrebbero accadere delle cose destinate. Perché Saturno è il signore del karma. E poi, ripeto, il primo abbiamo questa luna nuova, congiunta al sole e a Saturno, e il quattro, c'è un sestile perfetto di Giove e Marte. Quindi, insomma, l'energia che si muove e che trova il consenso, la legge o la legalità, e quindi, insomma, vedremo. Stavo guardando il tema del Premier, voi vi avete chiesto anche Letta, ma io non ho capito se era quale dei due, magari adesso li guardiamo tutti e due. Comunque, l'attuale Premier ha avuto, non ricordo neanche se l'ho detto la scorsa settimana, ma ha avuto la luna piena su Marte nel settimo settore, che è quello proprio delle relazioni, dei rapporti, della legalità. Una luna piena su quel Marte, già Marte in settima casa, per i rapporti è un attimo ballerino. Se c'è una luna piena, molto forte, che oppone, che viene opposta da Venere, retrograda all'ascendente di lui, Plutone all'ascendente di lui, Mercurio retrogrado sull'ascendente di lui, l'ascendente è il personaggio, adesso arriva anche Marte, in dodicesima casa, ma se ci diamo il tempo, insomma, il sospetto che silenziosamente o meno, sottilmente o meno, dalla luna piena ad oggi, quindi dal 17 gennaio agli ultimi giorni di gennaio, siano saltate alcune relazioni e punti di riferimento, equilibri su cui lui faceva affidamento, grande affidamento. Quindi, è come se dovesse fare una scelta o qualcun altro la farà per lui. Ricordiamo che la luna nuova, che si fa il primo febbraio, sul Sole e su Saturno, se non sbaglio, è proprio alla fine della sua prima casa. Eccomi qui, si sono andata a recuperare il tema natale del primo ministro per controllare un attimo. Allora, l'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che la luna piena, quando si è fatta opposta, la luna piena del 17 in cancro, quando si è fatta opposta ai pianeti in capricorno dell'ascendente, quindi alterando gli equilibri tra personaggio e relazioni, no, relazioni, insomma, appoggi, partner sulla scena che sono così importanti sulla scena politica, oltre alla luna piena, opposta allo stellium in capricorno di transito, plutone, mercurio, sole, plutone e venere, quello stellium è andato a toccare, in realtà, la luna nera del premier, la luna nera all'ascendente, questo ha ulteriormente fatto traballare degli equilibri, una luna nera in capricorno all'ascendente potrebbe indicare un uso, ricordatevi sempre che la luna nera porta le ottave basse di quel segno zodiacale, quindi quali potrebbero essere le ottave basse di un capricorno? L'eccessiva ambizione, il fatto di magari piegare il capo per questioni personali, personalissime, per interessi personali, di fronte a poteri ancora più forti, quindi non fare un volere etico come vorrebbe il segno del capricorno, ma vendersi per il potere stesso, potrebbe accadere, queste ovviamente sono ipotesi, noi non lo sappiamo, cerchiamo di analizzare anche attraverso gli avvenimenti, oppure l'eccesso, la smagna di potere potrebbe aver far chiesto troppo, magari fare sia una carica, ricoprire sia una carica che l'altra, fatto sta che da quella luna piena sono partiti tutta una serie di squilibri altalenanti che a cascata faranno accadere delle cose. Stavo notando che la luna nuova del primo febbraio si compie su Saturno, il signore del karma, è sul sole, nel suo ascendente, nella sua prima casa, il personaggio pubblico, quindi io dico che in quella data accadrà qualcosa di destinico, proprio destinata a lui, proprio qualcosa di destinato. considerando che Saturno è quadrato ad Urano, di transito nel quarto settore, la patria, beh, ed è anche opposta a quei pianeti in leone, ragazzi, in leone, Saturno è opposto a Saturno, e Plutone di nascita, e leone nell'ottavo settore, che sono proprio quelli della politica, vabbè, si sa va a san dir, che molto probabilmente, entrambe le cose, non le ha potute fare, non le potrà fare, e quindi dovrà fare una scelta. Questo, forse addirittura dovrà subire una scelta, questo è un tema natale, molto particolare in realtà. Potrebbero esserci, non lo so, potrebbero esserci delle giornate molto molto precarie, però in qualche modo troveranno un accordo, perché ragazzi, quel sestile di Giove a Marte a me fa pensare due cose, accordi veloci in politica, che spero in realtà si rivelino positivi, in quanto è una mediazione, un transito di mediazione, soprattutto per la questione ucraina, ok, e Russia. Quella è la cosa più interessante, forse è la cosa più importante, anche se io ho visto che dal primo febbraio i transiti di Putin, non febbraico, a partire dal primo febbraio, ma fino ad aprile, non sono il carnevale di Rio. quando la luna nuova si fa tra le altre cose, a parte le quadrature di Marte, che è anche un po' bellico, proprio mettersi contro un altro governo, Marte in Capricorno, le quadrature di Marte in Capricorno e dello Stelium in Capricorno ai pianeti di Putin, tra la dodicesima casa, lasciamo sta, a Urano, opposto all'ascendente, ma soprattutto era molto singolare che questa luna nuova, congiunta al Sole, è congiunta a Saturno, a me Saturno, che una luna nuova su Saturno, qualche equilibrio internazionale, proprio a livello collettivo, lo dovrebbe proprio muovere, questa luna si fa sul nodo nord, quindi su quello che lui deve fare in questa vita, che è in acquario, e che è in terza casa, quindi i rapporti, credo che lui come mission di vita avesse quella di stabilire rapporti pacifici con i paesi verso i quali invece il suo paese era entrato in conflitto, Saturno, il signore del karma, ci dirà, ci dirà proprio tra febbraio e marzo, se è riuscito oppure no, ma il primo febbraio è una data di equilibrio per diversi capi di Stato, quindi tornando a noi, c'è questo sestile, in questa settimana, il 4, questo sestile, Marte e Giove, che potrebbe portare a una svolta, nonostante le situazioni precarie nella politica italiana, potrebbe portare una mediazione assolutamente auspicabile per la questione della Russia, di Putin, Ucraina, Ucraina che dir si voglia, eccetera, che è una questione di pace, e poi, ultima, ma non ultima, per importanza, ragazzi, Marte è tornato sulla posizione che aveva due anni fa, quando più o meno il Covid, almeno ufficialmente, faceva il suo ingresso in Italia, il 17 o 18 febbraio 2020, se non erro, c'era anche Mercurio, un capricorno retrogrado, fatto sta che c'era un bello stellium, all'epoca c'erano anche Saturno e Giove, quindi si dava inizio ad una fase, no, istituzionale completamente diversa, basata sulla solitudine, se vogliamo leggerla proprio per traslato, perché il capricorno è un animale solitario, quindi proprio qualcosa che portava proprio l'isolamento, no, l'essere ridotti a pochi, e adesso Marte ritorna su se stesso, però questa volta Saturno non c'è più, Giove non c'è più, Giove è andato in pesci, quindi a favore della popolazione, no, Giove in pesci molto buono per il rispetto anche degli spazi, per dare anche una boccata di respiro e di aria nuova alle popolazioni e quindi potrebbe con questo se stile tanto Marte in capricorno congiunto a Giove, Saturno e Plutone ha dato inizio a questa cosa, tanto adesso il ritorno su se stesso ma conformando un trovando un cielo un po' diverso potrebbe iniziare a sancire la fine. Quanto tempo ci vorrà a mettere la parola fine? Noi non possiamo saperlo, però voi vedrete che entro l'11 maggio, cioè entro il giorno in cui Giove entra in ariete e inizia una fase completamente diversa, avremo in mano una situazione che avrà avuto un'evoluzione, quantomeno non si è rimasti in questa situazione perché noi sappiamo che quando evolve una cosa in bene o in male comunque sta andando verso il suo apice e quindi verso una sorta di declino potrebbero esserci ovviamente questo Marte in Capricorno se si viaggia in pesci potrebbe anche indicare la fine l'inizio della fine di questa situazione coercitiva anche per nuove scoperte scientifiche quindi delle novità che dovrebbero essere assolutamente positive e a breve cambiare gli assetti della della popolazione quindi questa questa è più o meno la cosa se io ve l'ho chiesto già se volete darmi altre domande guardare altre cose sulla società io ho risposto più o meno alle domande che mi sono arrivate fatemene sapere nei commenti male che va facciamo uno speciale ok quindi adesso introdotta la parte internazionale spero di non aver dimenticato niente cominciamo a guardare il cielo a vedere che cosa ci porta segno per segno ma dopo la sigla cari amici dell'Ariete e dell'ascendente Ariete sembra che questa settimana che comunque è sicuramente una settimana impegnativa perché perché avete Marte nel decimo settore che è proprio il settore dell'ambizione del lavoro della costruzione dell'impegnarsi di lavorare sodo di seminare lentamente di raggiungere le cose con fatica lentamente ma con grande soddisfazione quindi è un periodo molto impegnativo che tra l'altro torna di nuovo si ripropone di nuovo con quella lezione che è quella di insegnarvi la pazienza la costanza quindi sicuramente ogni tanto un po' di pazienza la perdete perché la pazienza si allena proprio perdendola no si perde poi si 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 riconquista si rimette sotto al nostro volere ci si riprova poi la si riperde questo chi ha dei valori in ariete nel tema natale o valori in segno di fuoco ma in ariete nello specifico sa bene di che cosa sto parlando quindi nonostante sia una settimana impegnativa di grande lavoro di costanza di focus con gli obiettivi no di proprio di volontà di raggiungere qualcosa e la pazienza di provarci ogni giorno è una settimana che in qualche modo sistema tutte le cose perché perché per quel fantastico se stile di giove no tra marte e tutto lo stellium tutto l'ambaradan di pianeti nel decimo settore che vi fanno già vedere la meta vi fanno già capire dove dovete andare per raggiungerla e quel giovane il dodicesimo settore che vi sta dando la visione vi sta contribuendo a dare la visione l'obiettivo la pace la serenità è come se si fosse è come se sapeste o iniziaste a capire dove dovete andare e iniziate a muovervi in questa direzione voi sapete bene che quando trovate la direzione a voi non piace lo sbandamento no il disorientamento quindi quando sapete dove andare anche se ci vuole un po' per raggiungerla insomma la meta è quello che conta per voi è anche importante arrivarci magari prima degli altri fare tutto e subito ma voi vedrete che la primavera da questo punto di vista sarà super generosa io vi ricordo sempre e lo sottolineo per tutte quelle persone che capitano in questi video per la prima volta la riete e l'ascendente ariete stanno sono come in una fase di incubazione si trovano come un bruco che sta per diventare farfalla no la crisalide voi rinascerete a nuova vita l'11 maggio quando giove entrerà nel segno dell'ariete il segno dell'ariete è proprio legato agli inizi alle nuove fasi alle nuove partenze ai nuovi obiettivi alle nuove soddisfazioni e ovviamente chiude un ciclo iniziato nel 2011 e porta tutto quello che avete seminato in questo tempo chiude un ciclo e ne riapre un altro che finirà circa più o meno nel 2023 nel 2033 se non erro ma se il giove in ariete vi porterà una rinascita adesso che da capodanno è entrato giove in pesci è il segno dei pesci è l'ultimo segno dello zodiaco e quindi ci impone a tutti quanti a voi di più perché precede il segno che vi fa rinascere il bilancio cioè il rivedere un attimo tutti i settori della vostra vita fare un bilancio metterli tutti nel sacco sapete che il pesce è legato alle masse oceaniche cioè alle maree alle cose immense e grandi perché 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 porta con sé si dice tutte le sfumature dello zodiaco perché è proprio il segno che va a compimento tutti i settori tutti i talenti quindi un transito di giove in pesci come può esserlo ancora di più uno di saturno in pesci concludono proprio una fase che non è soltanto una fase di vita del singolo della rete ma anche di tutta la società quindi è un bilancio un micro bilancio nel macro bilancio adesso in questi mesi complici anche questi pianeti in capricorno che vi aiutano soprattutto quelli retrogradi che sì vi stanno facendo fare un lavoraccio la pazienza le attese le cose vecchie del passato che tornano sì quelle tornano magari la rete è molto focoso molto proiettato verso il futuro a guardare al passato potrebbe annoiarsi però c'è la grande opportunità di chiudere un bilancio inattivo inattivo non inattivo quindi di chiudere attivamente un bilancio come? risolvendo anche delle questioni professionali personali amministrative tutta una serie anche di responsabilità che magari non ce l'avete fatta a prendere tutti insieme sulle spalle ma magari qualcosa l'avete trascurato adesso questa settimana anche la prossima veramente fino al 7 marzo avete questo periodo intenso in cui potete lavorare allacremente e pazientemente per risolvere un sacco di cose e togliervi dai pensieri dall'anima proprio dalla mente tutta una serie di cose chiuderle risolverle precise lineari e avviarvi alleggeriti più sereni soprattutto più realizzati sicuramente più realizzati verso una nuova vita assolutamente verso una nuova vita il primo febbraio poi c'è anche una svolta vi arriva un aiuto un aiuto dalle amicizie dall'entourage poi questo molto dipende se fate un lavoro singolo individuale se siete dei liberi professionisti o se lavorate in team fatto sta che c'è la luna nuova sul sole su saturno in acquario nel vostro undicesimo settore che rappresenta o i progetti se state lavorando ad un progetto il famoso progetto di cui parliamo da capodanno dell'anno scorso dal 18 dicembre del 2020 allora questa è una nuova con sole saturno può portare delle svolte molto interessanti e molto positive perché saturno è un ottimo aspetto con il vostro sole il vostro ascendente sembra che ci sia un cambio nell'entourage o se lavorate con i colleghi anche entourage se lavorate singolarmente come singoli professionisti può riguardare a parte il settore delle amicizie importantissimo per una riete quindi può portare svolte e ritorni chiarimenti se ci sono stati dei problemi o nuove annessioni o incontri anche abbastanza importanti no? abbastanza determinanti per la vostra vita però se anche se lavorate singolarmente ma magari vi rivolgete avete dei punti di riferimento che ne so il commercialista l'avvocato il geometra no? tutte l'architetto tutti questi i punti di riferimento magari importanti per il vostro per il vostro lavoro con questa luna nuova su saturno e sull'undicesimo settore insomma congiunta al sole potrebbe esserci una evoluzione sicuramente positiva anche di dei punti di riferimento quindi un cambiamento un miglioramento un ritorno di una persona che finalmente può tornare a fare quello che volete se siete degli studenti ci sono delle novità in classe in classe o magari legate ad un professore no? sembrano essere delle novità positive magari un ritorno magari si torna in classe magari se non volevate andare in classe si fa la dad questo non lo so però sicuramente c'è qualcosa di molto di molto interessante che sembra interessante e positivo evolutivo che sembra sbloccare tutta una serie di situazioni stessa cosa sia che siate studenti sia che lavorate in team in una squadra con i colleghi sembra esserci una un'evoluzione positiva anche di questo e poi volevo ricordarvi perché non disturba mai che anche il settore delle finanze e della vostra indipendenza del vostro potere personale ed economico sono tornati finalmente a parlare una lingua che a voi piace una lingua positiva difficilmente se non avete ancora sentito nulla la scorsa settimana difficilmente questa settimana riuscirete a dirmi che non è accaduto ancora nulla per quanto riguarda le finanze e proprio riguarda il vostro potere alla vostra autonomia personale quindi anche se aspettate un mutuo una risposta positiva un investimento è molto interessante che che vi concentriate anche su queste cose perché si sblocca anche questo settore quindi io direi che sì vi dovete impegnare molto dovete portare pazienza vi dovete prendere al momento qualche responsabilità di più ma si sta sbloccando tantissimo poi rinascerete completamente il 7 marzo quindi un grandissimo un bocca al lupo fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici del toro e dell'ascendente toro cari amici del toro e dell'ascendente toro finalmente questa settimana il toro e l'ascendente toro mettono il turbo c'è tutta una serie di energie che si concentrano nel vostro nono settore che vi dà forza coraggio determinazione cioè proprio per andare avanti per centrare gli obiettivi per scartare tutta una serie di questioni limitanti pratiche burocratiche anche psicologiche anche motive legate al passato che vi tenevano fermi sicuramente questa settimana soprattutto quando ci sarà la luna nuova in acquario con congiunta al sole congiunta al saturno sul vostro sul vostro medio cielo sul vostro settore professionale complice anche allo stellium di pianeti in capricorno oltre alla forza oltre alle occasioni oltre all'energia oltre alle questioni che iniziano a sbloccarsi ci sarà proprio una svolta epica una svolta direzionale riguardo anche a quelli che sono i vostri obiettivi ora adesso possiamo dire che c'è una concentrazione si va formando uno stellium anticipato da questa luna nuova del primo febbraio è composto da sole luna saturno ma il prossimo mese sarete raggiunti anche da marte e sarà tanta roba e venere sul saturno quindi qui si chiude innanzitutto un ciclo iniziato tra il 91 e il 1994 un ciclo legato alle aspirazioni alla vostra capacità di di conquista di successo di realizzare quello che volete che volevate diventare se si chiude questo ciclo in in marzo e aprile ci sarà una concentrazione che io però vi devo spoilerare adesso perché sarà anticipata da questa luna nuova del primo febbraio quindi inizierà a svoltare ad arrivarvi forse da lontano dal campo del digitale forse da un ambito nel quale voi non avevate magari pensato di buttare l'occhio forse l'avevate sempre sognato ma non vi eravate mai concessi di uscire dalla zona di comfort e dai timori che i segni di terra e soprattutto il toro ha fatto sta che con questa luna nuova congiunta al sole congiunta a saturno si chiude un ciclo forse anche legato durato 30 anni legato forse anche alle rinunce a tutta una serie di rinunce a tutta una serie di cose che avete dovuto sacrificare perché vi sono capitate o vi era venuto in mente all'epoca di farle di ottenerle di raggiungerle e forse era una visione poi fatemelo sapere nei commenti insomma se è capitato anche a voi forse era un concetto un'idea troppo futurista troppo lontana veramente apparentemente come dire campatenaria senza fondamenta senza fondamenta certe e che invece oggi se avete sacrificato quel sogno perché sembrava troppo avanti nel tempo e adesso invece potrebbe essere diventato possibile con tutta la tecnologia con tutte le opportunità con tutto con tutta anche il diritto all'informazione l'accessibilità un'informazione fruibile anche gratuitamente liberamente adesso qualsiasi cosa fosse vi fosse venuta in mente o qualsiasi cosa abbiate perso lasciato indietro nel cammino volendo se era nel vostro destino cioè se quell'idea non era stata tanto sgangherata ma semplicemente lungimirante come un medio cielo in acquario vuole allora quella cosa potrebbe tornare quindi con questa luna nuova inizia a chiudersi un ciclo di sacrificio un ciclo di sacrificio e potrebbe iniziarne un altro volendo anche un po' un po' rivoluzionario un po' tanto rivoluzionario un po' tanto rivoluzionario che potrebbe cambiare le carte in tavola di quelli che sono di quella che è la vostra quotidianità di quella che è la vostra routine sappiate che tra marzo e aprile con quello stellium di marte venere saturno in acquario quadrati all'altro governatore dell'acquario che è urano si potrebbero davvero scardinare dei capisaldi dei punti di riferimento la quotidianità la routine per il toro ma c'è la protezione di giove c'è il se stile di giove e anche di nettuno che veramente potrebbe se riuscite a lasciare andare le zavorre le certezze i limiti le paure quelle anche no proprio ordinarie che a volte a un toro volendo potresti accedere ad una una connessione ad un'elevazione ad un salto quantico ad una proprio apertura dei confini che data la congiunzione di giove e nettuno in pesci potrebbe come dire risultare straordinarie potreste accedere a gruppi di persone a frequentazioni a contatti a team veramente di persone elevate evolute magari illuminate professionalmente personalmente spiritualmente insomma registrerete proprio un salto e potrebbero cambiare tante cose ora lavorate bene soprattutto lasciate che lo stellium di pianeti in capricorno nel nono settore quindi mercurio plutone venere vadano come dire adesso marte in capricorno scardinino tutte le idee limitanti tutte le idee limitanti che le paure magari dei vecchi traumi delle vecchie rinunce cioè concedetevi tutto quello che sentite che potrebbe farvi bene potrebbe portarvi lontano amatemi mettetevi veramente al primo posto perché è tutta una sorta di quindi non rimane tenermi c'è tutta una sorta di acquisizioni competenze coraggio determinazione crescita crescita personale culturale psicologica e anche un andar lontano probabilmente anche geograficamente restrizioni a parte insomma poi quando quando la mission chiama quando l'universo chiama il modo di andar lontano si trova e quindi impiegate in maniera proficua questo stellium in capricorno fino al 7 marzo perché poi veramente potrebbe potrebbe portarvi a iniziare a inaugurare un periodo una rivoluzione personale proprio di obiettivi di realizzazioni Giove vi farà che Giove favorirà vi farà incontrare le persone giuste per ottenerla e tutto quello che porta tutte le opportunità tutti i progetti tutte le prospettive che Giove e Nettuno portano quest'anno saranno poi consolidate positivamente da Saturno che nel 2023 lascerà il segno dell'acquario entrerà in pesci e quindi andrà a consolidare quello che vi è stato portato da da Giove in pesci no quindi Giove anticipa sviluppa porta porta a galla porta le opportunità porta la fortuna porta situazioni no molto porta situazioni benedette visto che è un Giove in trono in ottimo aspetto e Saturno poi consoliderà questa questo team questo progetto queste queste occasioni questi questi punti di riferimento questa fortuna che sicuramente meritate quindi c'è anche un salto quantico molto positivo relativo alle amicizie però questa questa cosa come dire è abbastanza naturale nel senso che con tutti questi pianeti nel nono settore quando una persona viene inondata da un'energia talmente forte che la spinge a superare se stesso i propri limiti quindi che la spinge volente o nolente ad una crescita personale proprio un superamento del proprio passato per andare verso il futuro inevitabilmente lasciando zavorre lasciando pesantezze aprendo la mente quindi lasciando una chiusura mentale se questa cosa si fa per bene cioè se si accoglie la novità se ci si mette in gioco veramente si desidera veramente sfruttare le occasioni per migliorarsi questo porterà a rilasciare tutta una serie di zavorre quindi a diventare molto più veloci scattanti proattivi svegli lasciando le pesantezze ovviamente l'anima il mentale l'emotivo vanno un po' più veloci diventano molto più produttivi e di conseguenza uno dei riflessi immediati è che la vita di prima le frequentazioni di prima non ci piacciono più e non vanno bene più ma semplicemente perché senza giudizio perché non suonano più non risuonano più con noi non vibrano più nello stesso modo e quindi si percepiscono come limitanti o come come pesanti quindi non vi spaventate quando si fa pulizia che inevitabilmente mercurio retrogrado plutone venere retrograda congiunti a marte proprio no obbligati da marte a scartare chiunque insomma a fare delle selezioni molto dure non vi spaventate quando poi a un certo punto sembra non essere rimasto nessuno perché quello è quel momento di stasi che poi deve far arrivare nuove nuove energie se non si fa il vuoto se non si libera uno spazio non può essere come dire ricolmato no e quindi è una fase importante naturale evolutiva e quindi benedetta e quindi grande momento per il toro insomma che finalmente inizia a lasciare zavorre quindi fatemi sapere nei commenti come sta andando questa settimana è benedetta per la prima decada principalmente perché la prima decada è quella che inizia immediatamente a mettere il turbo ad agire seconda e terza hanno comunque uno stellium di pianeti in capricorno di cui due retrogradi quindi stanno ancora come dire sono ancora in centrifuga no stanno ancora trasformando gli obiettivi ma ragazzi ci siamo insomma quindi poi c'è chi arriva prima chi arriva dopo c'è già la luna la luna del 31 gennaio per seconda e terza decade che farà fare quello switch se seconda e terza decade stanno ancora vedono la luce ma non sanno se non sanno come non sanno quando vedrete che tra il 30 e il 31 gennaio questa è una spolerata dell'ultima settimana ci sarà un turbo anche per voi quindi poi spalancherete le porte alla forza di Marte quindi forza coraggio fatemi sapere nei commenti scrivetemi su twitter se non riesco a rispondere ai commenti su youtube perché diventano tantissimi e insomma non è sempre di facile gestione un grandissimo bacio e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli cari amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli questa settimana le energie sono bilanciate un po' in aria e un po' in terra e alcuni sono vi stanno lanciando vi sembra vi stanno lanciando verso il futuro vi sembra di vedere la luce vi sembra di andare lontano vi sembra di aver già capito di avere già una calendarizzazione prima c'era una grande confusione adesso è come se vedeste la fine di questi progetti di questa situazione incerta ma deve essere accaduto qualcosa che per questioni familiari per questioni sentimentali per questioni diciamo di karma di karma di identità o morali o materiali vi ha riportato un attimo indietro deve essersi ripresentata una questione burocratica state rimettendo mano a delle questioni burocratiche state risistemando forse o delle questioni ereditarie vecchie no? cui pensavate di aver già messo mano e potrebbero addirittura essere rispuntate situazioni magari del del bienio 2020-2021 oppure se non si tratta di quelle stesse dinamiche può essere spuntato qualcosa di nuovo che però vi sta in qualche modo facendo rivivere certe atmosfere fatto sta che adesso probabilmente il fatto di essere tornati a dover guardare o il karma familiare o delle dinamiche di eredità o un certo modo no? anche etico di affrontare le situazioni di affrontare le situazioni con maturità o meno quindi si stanno ripresentando queste cose perché? perché insomma il cielo dice che si sta ripresentando quello che avete cercato di lasciarvi furbescamente alle spalle senza no? le furbate dei gemelli quando il gemelli non ha voglia di fare una cosa quando il gemelli frettolosamente finge di magari di aver fatto un lavoro sì di averlo fatto di aver capito giuro non lo faccio più insomma sembra che il cielo se quello quel non lo faccio più quel sì ho capito non sono veri è probabile che il cielo vi riportino qualcosa del passato per farvi per farvi capire per farvi capire per far capire un po' a tutti quanto è vero quanto erano vere quelle parole e quanto no quindi vecchio vecchie nuove occasioni per la crescita queste sono occasioni di crescita queste sono preziose occasioni di crescita è chiaro che avete avete avuto saturno nell'ottavo settore che è proprio quello del karma familiare del recidere eticamente proprio di fare delle scelte di tagliare dei cordoni di diventare adulti e questo è accaduto fra il 2020 e il 2021 quello sicuramente però sicuramente anche c'era qualcosa che avete lasciato indietro e che adesso si ripresenterà fino al 7 marzo questo ve lo spoiler perché perché con Marte nell'ottavo settore verrà a galla tutto quello che come dire quello di che di karmico dovete affrontare per chi fosse capitato per la prima volta nei miei video trattandosi di astrologia evolutiva io ogni tanto più spesso di ogni tanto racconto che chi si incarna nel segno del gemello dell'ascendente gemelli così come con il cancro l'ascendente cancro ha tra le simbologie karmiche da come dire da sperimentare di confucimentarsi proprio quella della maturità della maturazione del non essere figli del non certo punto della vita di trasformarsi di non essere più figli quindi di non subire eccessivamente i genitori di non ripetere pedissequamente proprio gli insegnamenti dei genitori ma cercare di fare quello scatto in più proprio in nome dell'evoluzione della specie quindi questo karma familiare sempre molto forte quel fatto di reiterare reiterare comportamenti magari karmici del proprio clan questo vale per esempio per il prossimo segno che è l'ascendente sole ascendente cancro quindi questi pianeti soprattutto quando una persona ha molti pianeti personali in questi segni e per pianeti personali intendo sole ascendente luna venere mercurio fino a Marte queste dinamiche si ripropongono continuamente quindi loro soprattutto i gemelli con un Marte o con tutti i pianeti retrograli nell'ottavo settore che è proprio quello del karma familiare delle cose nascoste quindi tutte quelle che insabbiamo quando non abbiamo voglia di no di prenderci delle responsabilità e quando vogliamo continuare a fare un po' come ci pare che ai segni d'aria si confà particolarmente questa cosa no perché perché amano la leggerezza e quindi stare lì a scavare a sentire magari lì li tedia particolarmente no quindi vi anticipo che in questo mese mese qualche giorno potrebbero ripresentarsi queste dinamiche il segreto per liberarsene è fare il vostro non non fuggire perché ogni via di fuga è un voltare le spalle all'evoluzione soprattutto a quello che è il vostro karma quindi star lì in presenza osservare che cosa è ritornato guardarlo accettarlo mettersi in discussione e cercare di capire qual è non la cosa non fare la reazione che ci piace no quello che ci conviene ma fare quello che è giusto questo marte questo stellium nell'ottavo settore vi chiederà per l'ennesima volta di fare con determinazione dei dettagli o comunque di comportarvi attivamente di sganciarvi di rinascere da vecchie situazioni in che modo facendo la cosa più etica giusta e soprattutto matura adulta perché sono pianeti in segno del capricorno che vi è possibile fare però avete anche come dire un buon coach chiaro che c'è qualcuno che vi guida c'è qualcuno che vi che vi spalleggia che vi sta indicando la strada anche in maniera pesante perché perché avete saturno sole e luna nel nono settore quindi è come se ogni volta che pensate di aver fatto abbastanza questo soprattutto nell'ultimo anno ogni volta che pensate di aver fatto abbastanza vi sedete e invece c'è qualcuno che dice no non hai capito devi continuare perché hai fatto troppo poco quindi è un periodo molto impegnativo ma è un periodo alla fine di questi transiti che vi mostrerà quanta strada avete fatto e state pur certi che la vostra vita non sarà più la stessa sarà assolutamente cambiata ma migliorata perché sta succedendo tutto questo perché questi mesi così infami come mi avete scritto perché tutta questa pesantezza perché voi state chiudendo un ciclo molto importante tra l'altro uno minimo iniziato nel 2010 che è legato alla fase lavorativa e alle aspirazioni personali e professionali cioè praticamente quello che voi volete diventare quello che voi volete realizzare questo ciclo allora è molto probabile che si stia chiudendo un ciclo del 2010 ma altri cicli portati da giove che potrebbero chiudersi sempre a livello professionale di carriera di ambito lavorativo comunque di successo di realizzazione potrebbero essere anticipati al 98 all'86 poi veramente si va molto in là al 74 ma insomma a livello professionale dovreste vera io ve lo auguro avere una vita lunghissima quindi quindi siccome qui c'è una rinascita proprio professionale che potrebbe portare o ad una al coronamento di qualcosa quindi a un obiettivo che sognavate da tempo o a una promozione o comunque a un avanzamento o un allargamento delle vostre competenze a un trasferimento può veramente indica indica un successo giove in pesci che ritorna sul vostro medio cielo e quindi ci dovete arrivare maturati e preparati perché il ciclo che chiude questo giove è un ciclo di 12 anni iniziato nel 2010 che vi chiede conto di quanto vi siete formati di quanto siete cresciuti se volete questa promozione questa svolta questa liberazione se la volete veramente quanto siete cresciuti quanto vi siete impegnati se vi siete impegnati poco o se vi siete impegnati tanto ve ne accorgete ve ne state accorgendo dal 2021 perché perché state messe sotto torchio e chi è stato ci sono le gemelli che volano liberi gemelli ascendente gemelli che volano liberi ed altri che stanno scontando insomma una una quaresima per è la differenza ragazzi e che il raccolto dipende dalla semina quindi c'è stato il gemelli metodico che comunque ha voluto mettersi in discussione che non ha non ha fatto magari soltanto la vita da cicala ha fatto un po' la formica quindi non soltanto mettendo i soldi da parte ma crescendo mettendosi in discussione mettendosi in gioco ci sta chi si è tediato un po' e quindi adesso è sotto un torchio meno pesante di chi invece un sacco di cose ha provato a buttarsele alle spalle il segreto insomma per non ritrovarsi con dei transiti impegnativi veramente no con le spalle al muro debilitati è proprio quello di fare il proprio no come si fa a fare il proprio perché me l'avete chiesto no fermatevi guardate quali sono gli ambiti della vostra vita che vanno a gambe all'aria se ricevete sempre un tipo di critica se quello è Vox Populi Vox Dei mettetevi in discussione la colpa non è sempre degli altri la realtà che vivete una realtà che è il riflesso della vostra della nostra di tutti quello che non ci piace è quello che più va attenzionato e va trasformato quindi prendendo come innanzitutto prendendosi le proprie responsabilità ovviamente noi soprattutto dove ci sono rapporti a due dove ci sono rapporti lavorativi se abbiamo mancato possiamo fare il nostro dire adesso inizio a fare il mio quindi riparo chiedo scusa mi impegno cambio atteggiamento divento molto più produttivo divento molto più costruttivo magari meno menefreghista meno meno lavativo insomma cerco di correggere quelle che sono le ottave basse della mia personalità poi ovviamente teoricamente immettendo del buono in una situazione si trasformano anche i problemi verso il prossimo verso gli altri se si diventa meno nervosi meno superficiali meno impetuosi più rispettosi se si cambia cambia anche l'altro se l'altro non dovesse cambiare potrebbe potrebbe se voi veramente siete cambiati anche dentro ragazzi non vi mettete le maschere ma siate onesti nell'impegno perché l'universo non guarda alle maschere ma guarda all'energia che realmente emaniamo se riuscite a fare questo e l'altra persona magari non sembra collaborativa visti i transiti strepitosi che poi avrete nelle prossime settimane potrebbe accadervi anche di capire che quella situazione è semplicemente giunta a conclusione e che potete e avrete la possibilità assoluta di liberarvi liberi nel mondo e di trovare il vostro posto che con quel Saturno e non a casa probabilmente vi sta già aspettando quindi momentone da non sprecare ok quindi un grandissimo in bocca al lupo fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro cari amici del cancro e dell'ascendente cancro come sapete avete Giove a favore quindi soprattutto la prima decade sta come dire sta iniziando una nuova fase si sta riprendendo se ci sono stati degli allontanamenti delle chiusure sul personale a livello relazionale con il lavoro quindi soprattutto la prima decade e anche tutte quelle persone che hanno una luna ai primi gradi del cancro pianeti personali come la venere stanno risentendo del favore di Giove che se ci sono state delle chiusure in qualsiasi ambito sta portando o una soluzione o una soluzione a quelle chiusure oppure delle nuove delle nuove prospettive per andare avanti e per dare delle svolte di vita e questo è chi ha invece chi non è ancora andato avanti mettiamola così e magari sta ancora pensando di recuperare alcune situazioni che dalle più recenti che sono finite magari con l'ingresso di Venere nel segno del Capricorno il 4 novembre poi diventata retrograda quindi il 19 dicembre quindi quello che aveva resistito tra il 4 novembre e il 19 dicembre dal 19 dicembre con la retrogradazione di Venere congiunta a Plutone che è la trasformazione delle situazioni chi ha resistito fino al 19 potrebbe poi aver avuto degli allontanamenti o comunque delle tensioni in relazioni ma anche nei rapporti lavorativi insomma nei rapporti con gli altri perché questo stellium di pianeti si trova nel vostro settimo settore cari amici del cancro che è quello proprio della legalità dei processi dei matrimoni di quello che diamo agli altri di quello che gli altri danno a noi insomma anche quindi della nostra capacità di dare e ricevere se ci sono delle alterazioni se diamo troppo se prendiamo troppo insomma noi diamo poco con i transiti che ci sono se esistono con i transiti che avete nel settimo settore se avete degli sfasamenti nel rapporto con gli altri quindi se siete leggermente sfasati o in eccesso o in difetto le situazioni che sono terminate sono terminate proprio per insegnarvi farvi comprendere dove era l'errore quindi anche questa questa situazione è alterata oppure questo partner è sbagliato quindi tutto quello che sta accadendo so che alcuni cancro insomma sono un po' in difficoltà per la fine di alcune situazioni tutto quello che sta accadendo è per una correzione ora le situazioni che non sono state recuperate o che comunque sono state lasciate un po' traballanti in questo ultimo mese dal 19 dicembre nel quale abbiamo iniziato a subire il moto di venere retrograda congiunta a plutone allora quelle cose che non so che sono rimaste lì traballanti o magari quegli allontanamenti quelle chiusure che però hanno lasciato quel sapore della speranza del ritorno potrebbero da a partire da adesso fino al 7 marzo avere subire una ulteriore definizione perché perché marte insomma che è il dio della guerra e anche l'energia e della forza sta entrando nel vostro settimo settore quindi sta raggiungendo venere mercurio retrogrado e plutone quindi questa settimana la prima decada la vive in maniera un po' edulcorata le altre decadi dovranno attendere giove per risanarsi però che cosa potrebbe accadere che in alcuni casi dove speravate che una persona tornasse potre o in quei casi in cui speravate che un datore di lavoro magari vi chiamasse potrebbe accadere che vi venga invece posto un ulteriore stand by no cioè marte potrebbe sancire la fine di quelle cose in cui voi speravate ancora perché accade questo se accade questo miei cari cancro che so benissimo siete molto portati a vivere il passato anche io dei pianeti nel segno del cancro e magari finché non si chiude una situazione dentro di voi siete più portati a guardare il passato rispetto al futuro cari cancro se dovesse accadere questa cosa è proprio cioè se dovessero definitivamente terminare queste collaborazioni queste relazioni se qualcuno dovesse rimettervi anche a posto no perché potrebbe accadere questo con marte in settima casa al discendente opposto sole e ascendente allora probabilmente l'energia l'universo le stelle l'astrologia ci stanno dicendo che abbiamo esagerato con un atteggiamento e quindi siamo stati rimessi a posto ok siamo stati rimessi a posto e quindi la prossima volta che inizierà qualcosa che non è detto che non inizi tempestivamente perché marte nel settimo settore indica anche novità passioni e terremoti e trasgressioni all'interno di situazioni di relazioni ma anche proprio dell'ambito relazionale no marte comunque la passione una passione fredda una passione controllata una passione che esteriormente si mostra fredda quindi un partner un nuovo un corteggiatore che magari fuori si mostra freddo ma sappiate che la passionalità di venere marte in capricorno è proprio come dire fuoco sotto la cenere quindi sono passionalissimi ok quindi se finisce qualcosa innanzitutto sappiate che è un è un insegnamento e che quindi bisogna riflettere sugli errori commessi e cercare di stabilire dei confini dei paletti di non ripetere certe cose che magari si ripropongono sempre perché perché presto in realtà il cancro che veramente quest'anno con l'amore dovrebbe avere grandi fortune perché presto potrebbe arrivare una nuova persona molto presto con la quale non ripetere le vecchie dinamiche quindi settimane intense settimane di grande crescita come sempre le opposizioni di marte soprattutto gli stellium opposti al sole ascendente gli stellium nel discendente creano la questione potrebbe non riguardare soltanto le questioni sentimentali la questione potrebbe la tensione potrebbe riguardare anche delle questioni patrimoniali contratti lavori lavori in corso perché ragazzi i pianeti in capricorno troppi pianeti in capricorno e un saturno in ottava veramente indicano burocrazia quindi o qui stiamo arrivando alla fine di un procedimento legale con esito e saturno luna nuova e sole in acquario in ottava portano proprio alla fine di una situazione no alla fine di di un percorso no magari di di un percorso processuale alla fine e alla rinascita quindi proprio al voltare pagina oppure portano se non è o l'ambito matrimoniale potrebbero riguardare l'ambito contrattuale cioè se non è una separazione se non è un divorzio se non è qualcosa di di processuale esterno che andava avanti già da molto tempo no magari dal dal 2018 dal 2018 2020 allora potrebbe trattarsi anche di di altri tipi di di contratti che potrebbero essere legati essere legati anche a dei a dei lavori a cose tecniche perché ovviamente stiamo parlando di del capricorno no che quindi è legato agli organi agli organi governativi no volendosi potrebbe riguardare anche degli impieghi presso degli enti no la fine di queste di queste collaborazioni insomma questo marte nel settimo settore per fortuna che c'è Giove per fortuna che c'è Nettuno per fortuna che c'è Urano che è tornato diretto nell'undicesimo settore che quindi vi fa cogliere un sacco di opportunità sappiate che per una cosa che finisce avete opportunità occasioni che che vengono dalle amicizie dal settore delle amicizie e voi vedrete che davvero davvero se finisce una cosa ne inizierà presto un'altra quindi non vi rammaricate però usate questo transito assolutamente sfidante per per imparare qualcosa per per imparare a non eccedere per imparare a come dire diventare un po' più maturi perché il cancro questa cosa di sedersi un po' nelle relazioni nei rapporti magari di aspettarsi ce l'ha non tutti i cancro ce l'hanno a volte qualcuno mi scrive risentito no ma il cancro questa cosa non ce l'ha ci sono dei cancro mica siamo tutti uguali ci sono dei cancro risolti e dei cancro non risolti se siete risolti cioè se siete adottate alti o se siete adottate basse cioè se vivete in lato ombra del cancro lo capite per esempio quando ci sono i pianeti in opposizione come adesso che c'è marte perché succedono cose no succedono casini si rovinano i rapporti e magari venite accusati di cose magari cose che avete già sentito succedere no allora in quel caso fermarsi e dire ma io questa cosa me la dicono sempre io non la vedo però se me la dicono sempre magari magari la faccio e non me ne accorgo no quindi se si incrinano le tensioni nei rapporti ci possono stare occasionalmente se ne succedono troppe se ci mandano sempre lo stesso feedback con un bel marte opposto di questi visto che trigono urano quindi possiamo risolvere velocemente visto che tanto abbiamo la luna nuova luna nuova su saturno nell'ottavo settore quindi si può rinascere no si può c'è proprio una una voglia di rinascita c'è proprio una un'energia di rinascita di karma allora approfittiamo ne mettiamoci in discussione buttiamo ste zavorre buttiamo questi modi di fare è inevitabile che uno stellium con marte in capricorno non sia molto formativo molto severo però ragazzi severo ma giusto quindi prendi porta a casa fai il bagaglio di quello che hai capito e dal primo febbraio insomma si dovrebbe veramente iniziare una nuova fase di vita una nuova fase di vita che poi in tarda primavera sarà di un generoso strepitoso quindi più cose si sistemano adesso più si fa spazio al nuovo e più cose belle arrivano quindi rimaniamo forti di questa cosa ragazzi io vi faccio un grande in bocca al lupo forza adesso che arriva marte anzi marte è già qui con noi quindi forza adesso che marte si fa sentire fatevi sentire anche voi nei commenti e passiamo agli amici del leone dell'ascendente leone cari amici del leone dell'ascendente leone dai transiti di questa settimana sembra che stiate lavorando alla cremente è veramente il caso di dirlo grazie all'ingresso all'ingresso di marte nel vostro sesto settore sembra che stiate lavorando alla cremente per risolvere per risolvere per perché forse avete iniziato un nuovo lavoro un nuovo lavoro una nuova collaborazione forse state lavorando molto per risolvere una situazione sentimentale o ne avete iniziata una nuova una nuova fase di vita fatto sta che avete un agglomerato di pianeti nel settore della quotidianità quindi già state rivedendo le vostre cose con venere retrograda dal 4 novembre poi è arrivato il sole mercurio mercurio è diventato retrogrado quindi già c'è tutta una rivoluzione no c'è un cambiare un modificare lo stile di vita potreste esservi dedicati alla vostra salute se vi siete trascurati per molto tempo potrebbero essersi ripresentati magari degli acciacchi di salute oppure qualcosa legato allo stile di vita a uno stile di vita un po' un po' troppo legato magari all'ozio ai piaceri visto che c'è venere retrograda se non vi siete se nonostante questi acciacchetti a queste problematiche non vi siete ancora dedicati a voi stessi vi anticipo già che con Marte in Capricorno fino al 7 marzo allora tutto quel lavoro che vedo per sistemare delle cose potrebbe essere tutta un'energia che dovete dedicare a voi stessi quindi questo è sicuramente un periodo da dedicare alla cura di voi da dedicare alla salute a rimettervi in forma ad avere uno stile di vita magari più morigerato a rivedere le vostre abitudini e quindi proprio il focus sul vostro quotidiano sul modo in cui sulla riorganizzazione anche degli orari se avete lavorato troppo se avete lavorato troppo poco insomma c'è questa rimisa in forma del vostro stile di vita della vostra persona che vi danno molto da fare e questa fase dura dal 4 novembre ma adesso fino al 7 marzo sarà molto concentrata se avete già uno stile di vita sano e se nonostante Marte nel sesto settore non stanno emergendo dei problemi come dire delle cose delle questioni di salute a cui dedicarsi probabilmente allora o state lavorando tantissimo perché o state passando le consegne cioè o state finendo state terminando un lavoro in una sede e magari state passando state iniziando a lavorare in un'altra sede oppure avete proprio chiuso in contratto e ne state iniziando un altro sembrano proprio di cambiamento di cambiamento anche lavorativo questi transiti con la luna nuova del primo febbraio su sole saturno nel settimo settore inizia proprio una nuova fase di vita o lavorativa o sentimentale o se avete avuto un lungo processo insomma una situazione processuale dovrebbe arrivare a conclusione come ripeto spesso e come dico per tutte quelle persone che magari capitano per la prima volta in questi video il leone l'ascendente leone stanno chiudendo un ciclo lunghissimo iniziato tra il 91 e il 94 quindi un ciclo di 28-30 anni fondamentalmente nel settimo settore che è il discendente che riguarda l'asse io-noi quindi quello che io do agli altri quello che mi aspetto e quello che che prendo dagli altri anche quello che concedo visto che stiamo parlando dell'asse leone-acquario e del mio impegno nella vita anche nei contratti della mia capacità di essere fedele a un contratto oppure della mia capacità di subire i contratti di tirarmi fuori o purtroppo rimanere invischiata in situazioni troppo vincolanti insomma quello che è questo transito di Saturno molto impegnativo sta riaggiustando gli equilibri tra l'io e il noi tra il dare e il ricevere quindi questo è un passaggio che capita che è capitato nel 2006-2007 con Saturno in leone su sole ascendente leone quindi sull'ascendente sulla prima casa adesso ha fatto mezzo giro dello zodiaco e Saturno in acquario che il segno opposto del leone è entrato nel settimo settore come a dire all'epoca 2006-2007 ha consolidato la personalità frontale quindi l'io quindi questioni lavorative questioni legate alla persona magari sono aumentate le responsabilità perché Saturno all'ascendente all'epoca ha portato maturazione consolidamento del prestigio visto che parliamo di un suolo di un ascendente leone quindi o la persona è maturata oppure la persona era diventata adulta e quindi era pronta a sposarsi a fare figli solitamente Saturno porta proprio una una maturazione della personalità dell'io della persona una maturazione è un aumento del potere delle responsabilità anche dell'età adulta ora che ha fatto ha compiuto nel frattempo in tutti questi anni metà ciclo diciamo dello zodiaco è ritornato in una posizione particolare che è quella proprio opposta all'ascendente che è la settima e per circa due anni e mezzo tre quello che per leone ascendente leone diventa impegnativo è proprio la gestione cioè la parte opposta all'io il noi e quindi se lì si è visto quanto la persona l'ascendente leone o il leone fossero maturi adesso si vede quanto hanno dato perché perché Saturno presenta una sorta di conto e mette in equilibrio le parti quindi magari se una persona all'epoca ha consolidato un potere molto forte un'autorità gestionale magari delle convinzioni perché parliamo del sole di un ascendente leone fortissimi e nel frattempo non come dire non si ammorbidita non si è evoluta è rimasta nel proprio orgoglio con un settimo settore con un Saturno nel settimo settore possono venire dei nodi al pettine no perché il settimo settore in acquario parla di anche di libertà di rispetto e di eguaglianza eguaglianza di spazi di diritti proprio nelle relazioni ok magari il leone tende ad essere molto dominante ci sono ovviamente anche dei leoni scompensati che a causa di una serie di prove della vita hanno perso quel potere dominante e magari si trovano nella parte inversa cioè di subire troppo addirittura il volere degli altri perché nella scompensazione del proprio del proprio sole capita anche di andare nella nella tombra nella parte opposta e anche in quel caso il ritorno di Saturno nel settimo settore impone di ritrovare un equilibrio perché insomma se si nasce leone o ascendente leone proprio la pecora probabilmente non bisogna farla nel senso che si è proprio chiamati ad incarnarsi con nelle simbologie legate alla gestione del potere dell'autorità della generosità del rispetto degli altri ma della di una certa autorevolezza comportamentale e quindi queste sono delle fasi molto molto particolari se ci sono delle tensioni nel quotidiano per esempio con i colleghi o con il partner causati da Marte portati da Marte visto che c'è anche un Saturno nel settimo settore bisogna chiedersi insomma quanta responsabilità leone ascendente leone abbia in questa dinamica bisogna farlo adesso perché poi dal 7 marzo al 25 aprile quando anche Marte entrerà nel segno dell'acquario opposto al leone e si congiungerà a Saturno tutte le mancanze di leone ascendente leone potrebbero venire tutti i nodi potrebbero venire al pettine con una bella concentrazione quindi questo leone avvisato mezzo salvato quindi questa settimana è una settimana bella intensa però c'è una usato bene usata bene la posizione di giovane l'ottavo settore che è quello della rinascita e di una nuova consapevolezza rispetto al karma personale no tutte queste dinamiche se guardate e accettate con compassione perdone umanità possono essere molto utili per rinascere a nuova vita con una con una dimensione spirituale molto più sviluppata no che magari il leone essendo molto pratico non sempre coltiva e invece questa nuova prospettiva potrebbe arricchirlo arricchire un segno che già è pieno di talenti quindi la parte umana quella che magari anche per paura anche per riservo tiene un po' allontano la parte più spirituale la parte più più tenera anche il mondo dell'invisibile potrebbero essere dovrebbero essere presi più in considerazione proprio per una completezza della persona più il transito è sfidante più si apre il cuore sicuramente più si vince quindi ragazzi un grande in bocca al lupo settimana impegnativa la luna nuova del primo febbraio sancirà probabilmente una nuova dimensione una nuova libertà ritrovata alla fine proprio di questi ultimi trent'anni e quindi una sorta di bilancio di lontana visione del futuro che poi dal 7 marzo potrebbe diventare effettiva con l'arrivo di Marte ma insomma vediamo che succede fatemelo sapere nei commenti così cerchiamo di seguire la pratica un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici della vergine e dell'ascendente vergine cari amici della vergine e dell'ascendente vergine questa settimana avete la luna nuova che porta una nuova congiunta con con Saturno che porta ipoteticamente delle importanti svolte lavorative che stavate attendendo da tempo abbiamo già parlato del fatto che voi avete Giove nel settimo settore quindi si chiude una fase diciamo contrattuale legata alle relazioni che è iniziata potenzialmente nel 2010 o forse nel ciclo precedente di Giove quindi nel 98 o nell'86 o nel 74 per controllare visto che per voi è molto importante questo transito di Giove perché Giove opposto al Giove sul discendente potete controllare sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook di Stars and the City ci sono i cicli di Giove cioè tutti i ritorni di Giove in pesci ogni 12 anni preciso che a voi il ritorno di Giove in pesci corrisponde con Giove opposto al sole oppure Giove opposto all'ascendente e quindi Giove in settima casa quindi Giove congiunto al discendente che cosa significa la settima casa è la casa delle relazioni dei rapporti contrattuali matrimoniali e quindi tutte le cose firmate dunque anche quelle lavorative abbiamo già detto che nei video precedenti con l'ingresso di Marte in Capricorno il 24 gennaio fino al 7 marzo c'è un grandissimo potenziale di rinnovare o comunque incentivare in maniera intensa anche molto costruttiva e positiva la vita sentimentale quindi quel Giove in settima casa potrebbe per chi sta vivendo Marte come portatore di novità sentimentali nuove storie convivenze magari gravidanze situazioni magari fine di una relazione che non andava più bene inizio di una relazione che sembra molto più costruttiva e positiva allora nel vostro caso Giove in settima proprio segna proprio la fine di un vecchio percorso sentimentale di un vecchio percorso relazionale l'inizio di un altro di uno nuovo e quindi la luna nuova nel sesto settore indica proprio una svolta di vita perché un cambiamento perché non vi frequentate più con una vecchia persona oppure uscite dalla solitudine e iniziate una nuova no? una nuova vita oppure oppure ragazzi Marte nel quinto settore perché dipende anche ai transiti come ci si arriva questo Marte nel quinto settore sta portando alla fine una relazione no? che non vi dava più soddisfazioni che state elaborando e su cui state riflettendo sicuramente dal 4 novembre o ancora di più dal 19 dicembre grazie a dei passaggi di Venere in Capricorno e magari adesso con Marte che è entrato nel quinto settore siete decisi a darci un taglio a questa situazione e in quel caso Giove nel settimo settore indica proprio la conclusione semplicemente di un ciclo sentimentale relazionale l'apertura di un altro nel quale deciderete voi quindi non necessariamente con un'altra persona proprio una nuova fase di vita che poi riempirete con le esperienze che decidete di fare no? di avere e quindi questa luna nuova del primo febbraio nel sesto settore su Saturno potrebbe indicare la ritrovata libertà perché perché una nuova in acquario con Saturno in acquario può portare anche a fare una grande selezione nello stile di vita nelle frequentazioni ne proprio nel quotidiano una grande selezione e un desiderio di essere un po' più liberi anche di rivoluzionare qualcosa quindi se sentite una certa ribellione una strana ribellione alla routine alle cose vecchie visto che la vergine molto amante trova grande sicurezza nella routine sappiate che questa luna nuova congiunta Saturno vi sta rendendo proprio desiderosi di e anche consapevoli di mollare quelle quelle pesantezze quelle quelle routine quelle abitudini che ormai non vi appartengono più quindi sicuramente anche complici le relazioni con questa settimana dovrebbe veramente prendere piedi una prendere piede una nuova fase di vita ma vista la concomitanza diciamo di giove in settima casa e visto Saturno una nuova e Saturno e sole in sesta le novità potrebbero essere anche lavorative anche lavorative e quindi qui quello che accade che ho appena diciamo enunciato per l'amore potrebbe accadere anche per il lavoro se c'è una situazione lavorativa che non sopportate più con questa luna nuova del primo del primo febbraio potreste in qualche modo ribellarvi veramente in qualche modo ribellarvi e dare dimissioni o comunque anticipare che state per cambiare e io vi auguro allora io sono sempre a favore del rinnovamento e del trovare quello che ci piace fare io mi auguro che abbiate già una seconda prospettiva perché magari di questi tempi se una persona non è stata particolarmente previdente in passato potrebbe poi trovarsi con delle difficoltà se non avete la seconda chance e come dire riuscite a sopportare senza far danni senza dare comunicazioni improvvise la luna nuova del primo febbraio sappiate che in marte già da dalla prima seconda settimana di febbraio inizierà a formare un trigono che è un aspetto favorevolissimo con urano tradotto se aspettate un attimo fra un paio di settimane a partire da un paio di settimane anche meno dovrebbero spuntare delle novità delle novità delle nuove prospettive lavorative quindi se non avete lasso nella manica sappiate che dovrebbe arrivare se avete già una situazione lavorativa questa luna e avete magari veramente fatto non siete contenti o comunque le cose non vanno bene vi state guardando intorno il consiglio non l'avete ancora fatto fatelo anche con mercurio retrogrado soprattutto se è una cosa che volevate fare da tempo ragazzi guardate fatelo fatelo perché quella luna nuova sul sesto settore su saturno veramente vi può portare delle svolte lavorative improvvise improvvise e anche se vado cianciando da diversi mesi che vergine ascendente vergine devono stare attenti soprattutto la vergine deve stare attenta alle cose improvvise no perché potrebbero esserci le proposte improvvise troppo baldanzose perché potrebbe esserci qualcosa di poco chiaro questa settimana veramente anche le prossime ma a partire da questa settimana e grazie a marte in capricorno trigonaurano che diciamo si mettono in mezzo fanno un punto di talete rispetto all'opposizione vergine pesci da adesso fino al 7 marzo se dovete cambiare se dovete mettere firme da qualche altra parte fatelo osate se riuscite proprio la firma la sigla il contratto mettetelo dal 4 febbraio in poi giorno in cui mercurio tornerà in moto diretto se non ce la fate ragazzi sia fatta la volontà di dio vuol dire che quel contratto deve essere fatto con mercurio retrogrado che poi andando a guardare se era una cosa che desideravate da tempo cioè cambiare andare in quel posto ottenere quel diciamo quella formazione o il contratto allora è uno degli effetti di mercurio retrogrado perché pianeti retrogradi vogliono che si compiano le cose che sono rimaste in sospeso e invece quando poi il cielo torna diretto è in quel momento che ci si può come dire indirizzare verso il futuro cioè con i pianeti retrogradi solitamente l'energia all'universo vogliono da noi che si sistemino tutte quelle cose quelle idee quelle relazioni quelle situazioni del passato magari rimaste in sospeso e se uno ha inviato un curriculum in passato e la proposta gli viene fatta adesso gli viene detto devi firmare entro il 4 beh stiamo sistemando una cosa del passato se invece con mercurio retrogrado ci vengono quelle idee balsani adesso compro una macchina beh vi consiglio di aspettare perché io l'ho fatto due anni fa perché mi sfido molto più di quanto non non sembri faccio molti danni perché perché testo sul campo che cosa veramente significa un transito io l'ho fatto la macchina è arrivata se non sbaglio con mercurio retrogrado e tre giorni una settimana dopo che ho preso la mia fantastica macchina nuova è iniziata la pandemia e quindi insomma ci guardiamo dal garage nel senso che è una macchina che è uscita poco principalmente soltanto l'estate quindi come dire no sistemiamo le cose del passato con tutto che la volevo dal passato la volevo veramente però se non erro la firma o comunque quando è arrivata erano con mercurio retrogrado e quindi non è successo niente però come dire sarà forse c'erano troppi pianeti in capricorno però siamo rimaste sole e solette questo per dire che con mercurio retrogrado sistemiamo le cose del passato e non ci facciamo venire strane idee per il futuro anche perché il 4 febbraio è arrivato e quindi tana libera tutti quindi grandi novità sentimentali contrattuali qui lo stile di vita subisce una rivoluzione ma d'altra parte con saturno in sesta casa tante cose arrivano tanti nodi arrivano al pettine e tante cose nuove iniziano perché è il signore del tempo del karma e quindi quando passa in un settore decreta cosa è finito e cosa può nascere o cosa può durare ancora piccola chicca con saturno nel sesto settore con la luna nuova su saturno non trascurate la vostra la vostra salute perché tutte quelle cose un po' latenti si potrebbero cronicizzare proprio parlo a livello di salute fisica perché perché la sesta casa proprio parla della capacità che abbiamo di di prenderci cura di noi stessi e quindi quando c'è saturno quello che l'universo vuole da noi e che non ci trascuriamo quindi forza e coraggio anche anche per questo ragazzi io vi do un grande in bocca al lupo marte da tanta forza da tanta energia alla vergine all'ascendente vergine quindi anche se saturno fa salire gli acciacchetti dell'età non c'è sempre una una facile risoluzione fatemi sapere nei commenti come va in bocca al lupo per le vostre per la vostra luna nuova e per le vostre questioni contrattuali e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia cari amici della bilancia e dell'ascendente bilancia avete una situazione familiare e immobiliare o comunque legata alle questioni casalinghe veramente molto intensa questa settimana quindi immagino già che qualche bilancia ascendente bilancia fra questioni familiari persone di cui persone di famiglia di cui deve prendersi cura probabilmente tensioni forse con con dei congiunti traslochi lavori insomma sembra essere una un periodo veramente molto molto concentrato e molto sfiancante oppure state aspettando che si risolva qualcosa se non c'è un superlavoro solitamente le quadrature delle dissonanze di Marte portano o un superlavoro oppure visto che parliamo di pianeti retrogradi e Marte in capricorno anche e dissonanti al sole della bilancia dell'ascendente al sole in bilancia all'ascendente bilancia queste dissonanze venere mercurio Marte Plutone potrebbero portare anche tipo delle delle attese un po' sfiancanti no c'è l'allungamento dei tempi perché perché proprio vengono dal segno del capricorno che con sé porta la simbologia dell'attesa della pazienza sono in realtà delle delle dinamiche che la bilancia alla fine dopo un po' di noia gestisce con con maestria con maestria perché perché comunque la bilancia esaltazione di Saturno quindi passato diciamo il primo attimo di pigrizia e frivolezza quando c'è da rimboccarsi le maniche le bilancia sanno rinunciare a tante cose quindi figuriamoci se tra uno sbuffetto e l'altro non sanno attendere però io ho la sensazione visto tutto il giro di situazioni che sì potrebbero esserci delle lunghe attese ma mi sembra invece un momento molto movimentato molto movimentato perché perché oltre a tutto quella tutta quell'energia nel quarto settore che è il settore famiglie immobili quindi o ci sono partenze o ci sono ritorni o ci sono ristrutturazioni o ci sono trasferimenti o ci sono tensioni c'è anche una luna nuova il primo febbraio congiunta al sole e a saturno nel quinto settore appunto che mi fa pensare che o le tensioni che ci sono in famiglia sono legate a questioni sentimentali magari due genitori che discutono perché un figlio fa un colpo di testa e vuole andare via no oppure qualcuno che è arrivato alla fine di un matrimonio di una convivenza non ce la fa più e magari vuole sta cercando di lasciare quel vecchio nido per trovarne un altro oppure quel Marte in quarta casa indica congiunto a venere mercurio retrogradi indica una coppia in cui c'è un ascendente bilancio un sole bilancia che stavano aspettando un bambino ma tanto tempo e finalmente con questa luna nuova sul sole e saturno avrà notizie in merito e quindi quel trambusto quel Marte indica anche dei preparativi se quindi le novità in famiglia possono riguardare voi voi che volete andare via i vostri figli quindi novità figli che tornano figli che vanno figli che si laureano figli che vi fanno diventare nonni oppure nuovi amori oppure se lavorate fate un avete un lavoro svolgete una un'attività creativa potrebbero esserci delle novità in merito nel senso che se svolgete un lavoro creativo magari lavorate nei cinema o per il cinema no l'arte produzioni teatrali ma anche la moda insomma magari con con la luna nuova con queste ristrettezze no con questo diffondersi in questo periodo della pandemia se io dovessi contestualizzare potrebbe potrebbe indicare che magari c'è poco da da dedicarsi al lavoro proprio perché gira poca gente o perché magari si decide di chiudere per un periodo ha visto tutta una serie di rincari appunto se devo contestualizzare e magari quindi si torna in casa quindi quel marte in casa ci fa portare più energia all'interno delle delle pareti domestiche quindi le novità di questa settimana sembrano essere legate ad amore figli e attività creative sicuramente c'è giove nel vostro sesto settore cari amici della bilancia quindi delle novità genericamente questo 2022 che chiude un ciclo iniziato potenzialmente o nel 2010 o nel 98 o nell'86 o nel 74 o nel 61 62 circa se non erro chiude quindi questo periodo questo anno chiude un ciclo iniziato in queste date che risalgono il precedente ciclo di giove in pesci e comunque inaugurano una nuova fase di vita legata proprio al vostro quotidiano quindi potrebbe riguardare il lavoro ma anche le dinamiche familiari che fanno assolutamente parte della vita quotidiana se un figlio parte su un figlio torna se si diventa genitori se si diventa nonni il quotidiano cambia inevitabilmente soprattutto se i pargoli rimangono nei paraggi perché 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 c'è una nuova c'è una nuova vita si vive la vita con arricchita da altre presenze o se qualcuno se ne va la vita cambia perché comunque gli spazi le abitudini e bisogna anche imparare a fare i conti con le mancanze quindi che quest'anno chiuda un ciclo iniziato nei precedenti anni che se volete attenzionare lo dico soprattutto per chi capita per la prima volta su questi video se trovate nell'info box i link per i canali ai social di stars and city facebook e instagram soprattutto su instagram lo trovate molto più facilmente cioè ci sono le tabelle ci sono dei post con le tabelle dei cicli di giove c'è dei ritorni di giove in pesci c'è giove in acquario c'è giove in ariete presto metterò anche gli altri giove perché ho visto che vi state incuriosendo ma nel vostro specifico caso visto che è giove in pesci che porta come dire la conclusione di una fase durata almeno 12 anni quindi iniziata almeno nell'ultimo nell'ultimo transito di giove che il 2010 se volete andare a giocare e vedere tutte le altre volte in cui giove è tornato nel vostro settore diciamo quotidianità lavoro allora trovate le tabelle trovate le tabelle su instagram quindi si chiude questa fase legata al vostro quotidiano cambia il vostro quotidiano ragazzi potrebbe essere anche l'anno della pensione l'anno in cui magari uno da dipendente apre la propria attività oppure da chiude la propria attività e decide invece di mettersi a lavorare preferisce andare a lavorare in dipendenza di qualcuno qui c'è un cambiamento oppure c'è un cambiamento nello stile di vita magari quella luna piena nel quinto settore vi fa sentire più rinnovati più creativi più disposti magari a divertirvi visto che è il settore non solo della creatività ma anche del divertimento e quindi magari con giove nel sesto settore siccome anche giove insieme a Saturno potrebbe far venire fuori qualche eccesso qualcuno stile di vita un po' troppo abitudinario o comunque degli eccessi legati allo stile di vita che poi ingolfano un attimino la salute e la macchina biologica di una persona complice tutta questa serie di dinamiche e complice la voglia di rinnovamento portata da questa luna congiunta a Saturno e Sole nel quinto settore potreste anche dedicarvi alla vostra persona quindi non necessariamente dedicarvi cioè non necessariamente il cambiamento riguarda magari il lavoro o altre dinamiche comunque queste sono bene o male le sfere sappiate che questa luna nuova vi porterà comunque essendo in trigono cioè un ottimo aspetto o il vostro sole col vostro ascendente vi porterà delle novità delle novità molto gradevoli molto molto interessanti insomma molto probabilmente anche dei dei nuovi amori anche dei nuovi amori o forse la fine di qualche situazione che io vi auguro si concluda nella maniera più più positiva per voi e per tutte le parti ovviamente non è una certezza no però una luna piena su Sole e Saturno in quinta casa può farvi capire se quella persona può rimanere ancora nel vostro futuro prossimo ma anche no nel futuro remoto perché stiamo parlando di Saturno o se invece è una cosa che è giunta al termine quindi grandi consapevolezze fatemi sapere nei commenti non vi spaventate per Marte in Capricorno perché lo sapete gestire alla perfezione voi siete pur aria quindi non vi lasciate affossare dagli sforzi di Marte e poi parlate una lingua sotto traccia sicuramente molto simile quindi lo gestirete alla grande io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici dello scorpione e dell'ascendente scorpione cari amici dello scorpione e dell'ascendente scorpione benvenuti in una settimana che sembra essere la settimana veramente della azione avete presente quando al cinema quando sul set dicono c'è accazione sembra essere arrivata questa settimana a me sembra fatemelo sapere ovviamente nei commenti se a me sembra che questa settimana sia la settimana delle partenze dei trasferimenti volendo ragazzi anche dei trasferimenti non necessariamente di lunghissimo raggio potrebbero anche essere trasferimenti trasferimenti sul lavoro di come dire di distanza no dal minimo al lunghissimo però mi sembra proprio che a partire da adesso ci scappino proprio dei viaggi dei viaggi degli spostamenti dei trasferimenti la fase no ma anche oppure adesso arriva come dire la preparazione del viaggio sappiamo già lo ricordo per chi capitasse qui su questi video per la prima volta lo scorpione l'ascendente scorpione anno venere adesso anche retrograda nel terzo settore hanno diciamo tutta una serie di passaggi soprattutto dall'autunno dai giorni del compleanno ci sono tutta una serie di passaggi dati da venere che poi è diventata retrograda nel terzo settore quindi chiarimenti comunicazioni corteggiamenti quindi anche nascita di nuove situazioni poi è arrivato poi c'è stato il sestile il sestile di Marte all'epoca del vostro compleanno e poi poi la venere è diventata retrograda dal 19 dicembre il sole è arrivato in capricorno insomma la faccenda le faccende si sono fatte più complicate forse si sono accavallate più situazioni no quindi rimanere mandare un curriculum lontano forse rimango ritorno a un ex forse faccio ma mi sento anche con un'altra persona diciamo che c'è stato un rimescolare trasformare decidere diverse situazioni tutte legate ai trasferimenti alle comunicazioni ai chiarimenti alla parola probabilmente molti scorpione ascendente scorpione hanno avuto anche dei chiarimenti in famiglia con delle persone con cui sono legate o con degli amici comunque con persone a cui sono legate da un affetto quindi da legami affettivi e tutto questo ripensamento no tutte le dinamiche che si sono avvicendate dal 4 novembre ad oggi avevano tutte la finalità di farvi selezionare selezionare meglio come rivolgervi qualora nella parola nella comunicazione foste voi quelli che avevano bisogno di regolarsi in qualche modo quindi che era troppo silenzioso magari ha rischiato che si compromettessero dei rapporti proprio per un eccesso di chiusure quindi ha dovuto fare un piccolo sforzo oppure chi magari aveva detto cose che non pensava ha avuto la possibilità forse di chiedere scusa per recuperare dei rapporti delle situazioni in cui aveva sbagliato e a cui magari teneva insomma tutto quello che è accaduto anche i corteggiatori che sono sicura non possono essere mancati con questi transiti probabilmente facevano parte di un quadro nel quale imparare a selezionare anche chi chi si approccia a voi o voi come vi approcciate ad eventuale avete eventuali nuove conoscenze insomma sappiate che se il periodo è stato bollente e complicato proprio nelle relazioni nelle comunicazioni nei contatti nelle attese di cose che dovevano arrivare complice anche urano che è stato opposto saturno quadrato di che stiamo parlando qualcosa spettava anche a voi cioè se ci sono stati dei problemi se ci sono state delle tensioni come dire una correzione spettava anche a voi in tutte quelle queste diciamo modalità che vi ho enunciato adesso è entrato marte sestile a giove e quindi se non avevate fatto se non avevate fatto la selezione nei mesi precedenti cioè se nonostante tutta una serie di dinamiche magari o poco chiare o poco piacevoli non vi eravate esposti per prendere una decisione per tutta una serie di motivi perché magari non volevate sbilanciarvi o non eravate sicuri o chissà cosa allora adesso con marte questa selezione da adesso entro il 7 marzo deve essere assolutamente compiuta se non la fate voi qualcuno si potrebbe risentire o potreste avere degli interlocutori come dire molto esigenti qualcuno che vi chiede conto insomma potreste andare incontro a qualcuno che vi chiede spiegazioni o che raffredda i rapporti nei vostri confronti perché perché state rimandando qualcosa che dovete fare cioè una selezione che ragazzi datemi conferma nei commenti ma sembra riguardare principalmente i sentimenti le relazioni sentimentali quindi se ne avete più di una o se la persona che state frequentando che comunque vi sia approcciata non vi convince in questo momento dovreste cercare di prendere una sorta di decisione adesso c'è mercurio retrogrado magari poi potete come dire comunicare prendervi una settimana per riflettere e comunicare dal 4 febbraio ammesso che sono accade qualcosa prima dal 4 febbraio potreste comunicare quella che è la vostra decisione perché le stelle dicono che se non fate questa selezione quindi se non fate spazio al vecchio non arriva il nuovo un nuovo che assolutamente arriverà se invece non è l'amore non sono i trasferimenti non sono le risposte curriculum quelli che state aspettando magari siete stati incasinati per aiutare un figlio no magari siete genitori di ragazzi che hanno avuto dei problemi a scuola oppure siete stati incasinati con la dad io credo che molti di voi stiano vivendo questa questa dimensione par molto particolare molto faticosa e quindi voi vorreste sapere probabilmente quando finisce allora in quel caso se le tensioni dovessero riguardare i figli o comunque dovessero riguardare l'ambiente familiare la situazione potrebbe avere una sua risoluzione quindi ripristinare una certa dimensione di libertà a partire dal primo febbraio cioè da quando ci sarà la luna nuova congiunta saturno per alcuni scorpioni ascendente scorpione questo cielo potrebbe anche portare delle importanti trattative legate all'acquisto di una casa o alla vendita o comunque ad un trasloco legato ad essa quindi è un momento in cui veramente non fate altro che parlare telefonare chiarire qualunque siano le questioni e non è detto che una ne escluda l'altra quindi c'è chissà chiarendo confidenzato con l'ex con quello nuovo e nel frattempo si trasferisce nel frattempo ha chiesto il trasferimento di lavoro diciamo che il periodo è molto impegnativo però io ricordo a tutti gli scorpioni ascendente scorpione che il 2021 è il bello che è chiuso il peggio è passato ragazzi tecnicamente astrologicamente il peggio è passato potete buttarvi insomma tutta una serie di pesantezze alle spalle anche urano e anche saturno saturno prima anche urano e saturno che vi hanno bloccato tantissimo adesso saturno nell'autunno urano il 18 gennaio quindi si è rimesso diretto sta rivoluzionando un pochino no i contratti di lavoro le società i contratti matrimoniali però con giove che si mette in mezzo come punto di talete e con questi bei pianeti in capricorno che vi danno anche la possibilità di risollevare le sorti di rapporti che magari importanti ma che sembravano morti e che invece potrebbero risorgere insomma sappiate che tutto è recuperabile se c'è linfa vitale se c'è amore se c'è cuore se c'è intenzione ragazzi se c'è veramente impegno serietà tutto è recuperabile quindi voi selezionate non disperdete le energie magari sapete siete un segno legato a Marte quindi magari vi viene da invadere gli spazi altrui selezionate molto non disperdete le vostre energie siate selettivi siate spartani concentratevi e mettete impegno e attenzione soltanto sulle cose che reputate importanti e sappiate che è veramente tutto recuperabile e questo è l'anno dei grandi amori dei figli delle soddisfazioni dei figli e anche di creatività e tanto divertimento quindi divertitevi anche per tutti noi un grande abbraccio in bocca al lupo vi aspetto nei commenti e passiamo agli amici del sagittario e dell'ascendente sagittario cari amici del sagittario e dell'ascendente sagittario queste settimane ma soprattutto questa potrebbe essere una di quelle settimane effettive della ripartenza per chi fosse capitato per la prima volta su questi video perché siete stati in tanti a scrivermi e chiedermi cose del passato dei chiarimenti che nei precedenti video ho già dato allora il sagittario e l'ascendente sagittario come ben sappiamo sicuramente da ferragosto a pochi giorni fa hanno avuto un blocco lavorativo personale proprio tante questioni proprio nel quotidiano che quindi può includere veramente il lavoro le questioni di salute dei trasferimenti bloccati proprio delle situazioni veramente incredibili a causa del di urano nel sesto settore in toro che già urano in toro non è il massimo anche perché blocca tutte le questioni di ordine pratico no? di ordine proprio materiale proprio blocca la vita veramente e c'è stato questo urano retrogrado ben sei mesi ripeto da ferragosto fino al 18 gennaio e tra l'altro era bloccato quadrato dissonante a Saturno quindi due governatori dell'acquario che si facevano la lotta tra di loro effettivamente l'energia è stata particolarmente bloccante quindi molti sagittario attendevano una notizia attendevano una risposta dovevano trasferirsi non sapevano cosa fare a un certo punto forse qualche risposta positiva è anche arrivata ma in qualche modo si sono bloccate le cose non potevano partire non andava a nulla a ossa c'erano delle delle inagibilità burocratiche inagibilità magari proprio sia anche burocratiche a livello comunale quindi c'era il trasferimento ma non si trovava la casa poi non c'era cioè sono successe tutta una serie di cose c'è stata gente che è stata trasferita e dovuta tornare indietro sono successe tutta una serie proprio di di dinamiche di sembravano proprio delle distorsioni dei due mondi paralleli che si scontrassero e che non facessero veramente comprendere le cose che davvero hanno fiaccato il sagittario che nelle settimane precedenti tra il 13 dicembre e il 24 gennaio con Marte sul sole ascendente che gli faceva scalpitare gli inondati di energia non si può non tutti si potevano muovere insomma sono stati veramente con gli occhi fuori dalle orbite hanno veramente registrato dei momenti di tensione epici però adesso finalmente l'energia è entrata in capricorno Marte è entrato in capricorno inizia ha fatto già un sestile con giove nel scusatemi nel quarto settore quindi già si sono chiarite sistemate in qualche modo risolto comunque hanno trovato un aiuto per quanto riguarda delle questioni o casalinghe o familiari o immobiliari no quindi già si prospettano tutta una serie magari di accordi di sistemazioni e soprattutto Marte inizia a formare adesso un largo trigono ma ragazzi lo sentite già inizia a formare un largo trigono cioè inizia a fornire la sua energia in un assist costruttivo a urano urano che era rimasto bloccato nel vostro settore proprio del quotidiano e che dal 18 ha iniziato a riprendere il moto diretto e quindi piano piano io me lo immagino veramente come un carro un carro enorme che cicolando piano piano inizia a ripartire e poi ovviamente parte di volata perché stiamo parlando di urano che è vero che nel segno del toro e urano essendo come dire il pianeta delle cose improvvise legato al segno dell'acquario all'aria quindi alle cose veloci leggere fulmine subitane ovviamente nel segno del toro vuole muovere tanta di quella materia tanta di quella densità è come se inizia a muovere delle pietre che poi si sbriciolano quindi voi vedrete che dopo un transito di urano in toro tante di quelle abitudini tante di quelle di quelle coperte di linus che chiunque non soltanto il sagittario aveva poi alla fine il transito sono diventate un calzino no cioè si sono ridotte perché perché tutte le cose materiali tutti quei bisogni di cui si è convinti di avere necessità impellenti poi alla fine vengono sgretolati e quindi dal 18 questa cosa questa macchina sta iniziando a muoversi ma la spinta grossa io sono sicura che iniziate a sentirla adesso adesso che Marte inizia a dare un assist un trigono a urano e quindi già il carro voi immaginate già il carro si inizia a muovere con Marte che tra l'altro poi si congiungerà a Venere a Mercurio quindi risolve un sacco di cose rimaste in sospeso Marte su trigono urano è come se arrivasse una flotta di persone a spingere il carro quindi la macchina adesso riparte tra l'altro anche in maniera abbastanza abbastanza veloce che cosa può succedere allora la questione che dovrebbe trovare uno sbocco tra i più immediati è ovviamente quella tanto attesa da molti sagittario ed è la questione lavorativa se avevate se state aspettando delle risposte se state aspettando veramente di iniziare a lavorare proprio risposte affermative ragazzi con la luna nuova del primo febbraio sul terzo settore su saturno avrete avrete le notizie che stavate aspettando e visto che saturno forma un fantastico sessile cioè un ottimo aspetto con il vostro sole il vostro ascendente le notizie che arrivano sono selezionate cioè se avete sparato nel mucchio ce ne sarà una per voi perché saturno anche se non è in capricorno è sempre saturno e quindi vi chiede selezione selezione dedizione maturità competenza cioè proprio saturno allinea saturno fa crescere saturno è un maestro esigente e quindi magari verrete presi dove avete le competenze dove dove anche destino che andiate perché perché saturno è il signore del karma del destino quindi dove andrete no è il posto che vi serve per acquistare nuove competenze personali professionali e per crescere per crescere umanamente quindi le novità dovrebbero essere che adesso si sblocca tutto e quindi tutte quelle situazioni principalmente lavorative che vi hanno tenuti veramente bloccati per diverso tempo si si sbloccano e si riparte adesso io sono pressoché convinta che dal 7 marzo chi non è chi non è veramente partito chi non ha già iniziato a lavorare da adesso da subito perché io ve lo dico urano poi quando si quando inizia a muoversi urano è il pianeta di fulminaccia il sereno quindi uno aspetta tanto e poi magari con una settimana veramente deve organizzare una partenza potrebbero accadere queste cose chi per per tutto il tema natale perché ognuno ha la sua vita la sua energia il suo karma non deve partire immediatamente guardate ragazzi non disperate perché dal 7 marzo veramente qui iniziano le partenze veramente per tutti le notizie per tutti qui iniziano veramente le volate transoceaniche davvero cioè a marzo adesso state iniziando ad investire anche risorse per il vostro progetto futuro e per questa nuova novità che sta arrivando che sarà assolutamente lavorativa ragazzi assolutamente lavorativa e da marzo poi dal 7 marzo ripeto chi non è partito adesso partirà tra il 7 marzo e il 24 e il 24 25 aprile quindi è un momento è un momento di grandi grandi sospiri di sollievo forse il momento veramente di trovare casa forse il momento cioè chi farà su e giù no che farà il pendolare c'è chi riesce a sistemarsi in molti modi però insomma alla fine il succo ragazzi è che in questo mese e mezzo la vostra vita cambierà il proprio il vostro quotidiano cambierà ci saranno delle delle belle novità e poi vabbè tutta questa preparazione no tutte queste cose porteranno vi devono condurre sono una sorta di incubazione no come la il bruco che diventa farfalla e vi devono condurre all'11 maggio giorno in cui giove pianeta della grande fortuna torna nel segno dell'ariete vostro grandissimo amico pianeta di fuoco chiudendo un ciclo iniziato nel 2011 un ciclo sicuramente scomodo devo ancora fare il video di giove in ariete dei ritorni di giove in ariete ma mi ricordo i transiti del 2011 quindi si chiude un ciclo scomodo iniziato nel 2011 ed inizia dopo tanti blocchi tante attese tante insomma tanta pazienza profusa una nuova fase di vita legata veramente all'amore a nuovi amori o al consolidamento di un amore che ha che ha aspettato tanto ai figli e ragazzi questa è una rinascita quindi insomma bisogna arrivare a maggio ma anche per voi il peggio è passato urano si è messo in movimento quindi un grande bocca al lupo fatemi sapere che belle notizie mi arrivano un grande bacio io vi aspetto e passiamo agli amici del capricorno e dell'ascendente capricorno cari amici del capricorno e dell'ascendente capricorno è iniziato un periodo molto intenso molto movimentato anche di grandi conclusioni di grandi esiti stanno ritornando le delle situazioni datemi conferma insomma se è successo anche a voi ma stanno ritornando delle situazioni anche soltanto idealmente no nel senso di di chiudere dei cicli di cose che veramente risalgono alla pre-storia cioè risalgono veramente a tantissimi anni fa perché questo sta accadendo perché avete sul vostro sole sul vostro e sul vostro ascendente questa cosa sarà sicuramente capitando anche a chi ha la luna in capricorno altrettanto importante ci sono veramente un transito epocale di venere venere retrograda tra l'altro per almeno due mesi un transito che per chi fosse capitato per la prima volta su questi video è iniziato con venere in capricorno che diciamo seleziona e guarisce sistema le questioni sentimentali rapporti affettivi e le questioni di salute è iniziato questo transito molto lungo quindi particolarmente intenso impattante il 4 novembre quindi se dal 4 novembre e finirà il 7 marzo se dal 4 novembre ancora ad oggi con un intensificarsi della situazione dal 19 dicembre perché venere è diventata retrograda e quando il pianeta arriva indietro come dire come se facesse una ripassata in retromarcia una un po' più intensa e quindi sta riportando a galla tutta una serie di questioni sentimentali dinamiche affettive anche conclusioni di cicli no anche chiusure magari definitive in qualsiasi modo ragazzi per lettera per email energeticamente proprio prendendo le foto e strappando le chiudendo buttando tutte le cose che riguardano una determinata storia e situazione anche in questo modo proprio tutta una chiusura di relazioni e legami particolari insieme a venere e a plutone che è il grande trasformatore quindi si è accentuata e si è al momento intensificata sulle questioni sentimentali ripeto affettive e di salute irrepulisti e la grande selezione la grande selezione ma adesso con mercurio retrogrado probabilmente anche chiarimenti si stanno ripresentando chiarimenti con le amicizie questioni burocratiche questioni che magari avevate trascurato adesso si stanno dalla vecchia bolletta ragazzi ha un impegno che magari non eravate riusciti a prendervi e adesso vi sentite riprenderlo state facendo trattative compravendite colloqui insomma con mercurio retrogrado si sistemano si cercano di affrontare sistemare ma soprattutto inevitabilmente si presentano tutta una serie di cose protocollate legate alla carta bollata legate agli uffici legate alla burocrazia legate ai chiarimenti ai piccoli viaggetti ai piccoli spostamenti anche alle indagini visto che mercurio le indagini di natura fisica quindi gli accertamenti i controlli quelle cose che si fanno per la salute e vi conviene come dire non lasciare niente di in sospeso perché innanzitutto perché quando ci sono i pianeti ritrogadi è l'energia proprio spinge verso il passato e l'energia non inclina al futuro no proprio è un'energia che ci chiede per un mese per 20 giorni di concentrarci su tutte le questioni che abbiamo lasciato in sospeso proprio per pulire no come se noi fossimo un contenitore e quindi per pulire perché deve arrivare il nuovo se per motivi di fighe di pigrizia di menefreghismo di di qualsiasi cosa no il capricorno poi quando quando non ha voglia non si non si smuove per nulla al mondo se per qualche eh questione no non aveste voglia magari si è presentato qualcosa addio quella persona mi deve parlare ma io non ho voglia addio questa cosa devo fare ma non la faccio insomma se dovessero capitare queste cose siccome i pianeti in capricorno e poi il vostro sole il vostro ascendente anche la vostra luna sono nati in quel segno perché sono destinati a farvi cimentare con l'etica con l'etica con la responsabilità con la disciplina con la determinazione con la parola data proprio ferrei come teo comanda proprio la regola allora fatelo cioè non non siate come dire superficiali o meno freghisti ma mettetevi sotto insomma e affrontate tutte le cose che tutte le cose che si che dovete risolvere che avete lasciato in sospeso chiedete scusa se ci riuscite insomma vabbè o quando faccio questa battuta mi scrivete tutti no ma io chiedo scusa c'è anche chi ammette di non chiederlo poi ragazzi non siamo tutti uguali non tutti abbiamo lo stesso tema natale ma molti capricorno sono veramente coriacei e orgogliosi quindi rimediate sistemate le questioni del passato perché perché se non lo fate adesso che marte il signore della guerra dell'azione no dell'energia o dopo due anni è tornato sul vostro sole sul vostro ascendente questo comprime comprime diciamo spreme tutte le situazioni per vedere il succo no per vedere che cosa avete fatto quando marte incontra venere retrograda mercurio retrogrado dice beh è sistemato questo no e apre i cassetti e come dire magari vi riporta tutte le cose tutte insieme no tutte intensamente perché quando c'è marte l'energia sui nostri punti vitali è così tanta che solitamente si lavora molto addirittura poi si è anche un po' tesi perché magari l'energia è tanta non si riesce a disciplinarla e quindi poi magari c'è la perdita di pazienza che il capricorno ogni tanto la perdita di pazienza ce l'ha quindi momento molto intenso momento molto intenso che però porta anche delle ottime notizie quest'anno è iniziato con giovane il terzo settore quindi le comunicazioni le notizie le risposte che aspettavate chiarimenti la legge a favore sentenze a favore botte di fortuna incontri molto fortunati magari durante degli spostamenti quindi è un momento veramente è un momento veramente soddisfacente un momento che così con questa intensità durerà fino al 7 marzo poi inizia una fase un po' diversa però la fase che inizierà dal 7 marzo al 25 aprile vi viene anticipata spoilerata dalla luna nuova del primo febbraio che nel vostro caso si compie su saturno nel settore delle finanze dell'indipendenza economica del potere proprio personale per acquistare quindi ragazzi c'è saturno che cosa saturno è il signore del karma ma è anche della maturità del pagamento di debiti karmici degli impegni che può essere io credo che complice gioventerza insomma marte sul sole sull'ascendente forse sulla luna saturno con una nuova in seconda molti di voi stanno prendendo degli impegni probabilmente economici della serie mutuo un piccolo grande mutuo comunque proprio degli investimenti forse anche per se non è per un mutuo per una casa o per qualcosa forse è un investimento per iniziare una nuova attività forse da liberi professionisti no quindi non alle dipendenze di qualcuno ma totalmente indipendenti e quindi adesso state investendo le vostre risorse oppure state vedendo se lo potete fare quindi è un momento di grandi responsabilità di investimenti gli esiti dovrebbero essere assolutamente positivi adesso se ne inizi a parlare no con la luna nuova questa prospettiva questa questa assunzione di responsabilità di soldi inizia con queste trattative con la luna nuova dal 7 marzo diventerà effettiva quindi se vi state chiedendo se vi dovessero concedere un mutuo o se questa cosa si risolverà ragazzi con le fortune che avete quest'anno la risposta dovrebbe essere proprio sì a meno che visto che l'universo da voi vuole etica responsabilità e correttezza non abbiate fatto un disastro e allora poi insomma il karma presenta il conto quindi fatemi sapere che cosa porta questa luna piena vi faccio un grande in bocca al lupo insomma grandi movimenti celesti grandi svolte di vita si compiono per voi anche buone notizie per quanto riguarda i figli se i figli sono stati un po' incasinati o bloccati da aurano adesso da questa settimana iniziano ad avere grandi soddisfazioni anche loro forse c'è qualche progetto forse lavorate insieme a loro perché sembra essere tutto un po' collegato però fatemi sapere perché comunque anche per voi come ho già detto in vari video è un anno fantastico un grande bocca al lupo un grande bacio e passiamo agli amici dell'acquario e dell'ascendente acquario cari amici dell'acquario e dell'ascendente acquario so bene che saturno e sole cioè compiere gli anni con il ritorno del sole sul sole e saturno e avere magari quattro pianeti di cui due retrogradi uno e marte e il terzo e marte nel dodicesimo settore magari può non far compiere gli anni in maniera molto spensierata o comunque l'umore non è fantasticamente alle stelle e con saturno sul sole ci sta per chi capitasse per la prima volta su questi video e fosse acquario ascendente acquario o anche luna in acquario che è un punto importantissimo del tema natale voi avete il ritorno di saturno su sole ascendente e o luna saturno il grande maestro il signore del destino è un transito molto impegnativo perché è come se questo saturno vi facesse l'esame ma l'esame di stato quello grosso no proprio l'abilitazione a praticare no una una professione non manco l'esame forse di stato quello del quinquennio è un transito che dura 30 anni per quello lo paragono no alle abitazioni all'abilitazione alle attività professionali proprio perché se fosse se durasse 18 anni allora sarebbe no paragonabile 20 anni all'età degli esami di stato secondo me è ancora più poderoso perché perché segna proprio il passaggio con l'età adulta è un transito che chiude un ciclo iniziato 28 30 anni fa tra il 91 e il 94 e vi sta chiedendo in questi in questo lungo lasso di tempo il ritorno di saturno sul sole lune ascendente vi sta chiedendo quanto siete maturati quanto riuscite a disciplinarvi quanto siete adulti quanto vi appoggiate agli altri quanto sapete rispettare le regole portando innovazione insomma il ritorno di saturno sul sole è impegnativo ma ciascun sole ha il suo ha le sue simbologie su cui attivarsi quindi cerchiamo di capire cerchiamo di capire con questa luna nuova di questa settimana sul sole su saturno che porterà presumibilmente no delle svolte delle considerazioni un bisogno di tornare alla libertà magari di ribellarvi a qualcosa di lasciare dei pezzi indietro perché insomma siete un pochino insofferenti cerchiamo di capire visto che mi avete scritto che siete stanchi visto che le cose non vanno come vorreste a parte qualche caso eccezionale che invece ha fatto un capolavoro di questo ritorno su saturno cerchiamo di capire come indirizzarvi vi ricordo sempre che questo è un canale di astrologia evolutiva che è un po diverso dall'astrologia perché perché l'astrologia normale vi dice guardate con saturno su saturno state attenti siete siete ligi al dovere siete regolari siete responsabili ovviamente molti rami secchi saranno potati perché saturno è un pianeta spartano nel senso che vuole che voi selezionate solo il meglio per voi quindi tutte le cose un po inutili di cui noi ci contorniamo qualsiasi segno si contorna quando passa saturno che siano amicizie che siano lavori inutili siano rapporti relazionali insomma abitudini soprattutto una serie di cose saturno li congela si dice no li congela e qualcuno poi cade alcuni riprendono alcuni quando poi è passato saturno dopo due anni riprendono linfa quindi se è scomparso qualcuno se nell'ultimo anno qualcuno si è dato alla macchia alcuni rapporti si sono arenati sappiate che saturno non è proprio inesorabile non è una congiuntura di urano che solitamente dove passa magari rende le cose come dire non ripercorribili così si dice insomma nell'astrologia tradizionale saturno è un grande selettore ma selezionatore ma congela ci sono delle cose che poi alcune cadono a morte e altre quando il transito passa si riprendono un attimino magari maturate no cioè la persona se ritorna come era prima dopo essere stata un anno un anno e mezzo in vostra assenza a pensare al senso al senso della vita se ritorna uguale magari no andrebbe rispedita al mittente motivo per cui a volte quando non lo fanno gli umani di rispedire al mittente qualcuno che torna come o peggio di prima ci pensano i transiti retrogradi di saturno e anche voi di prima e seconda decade li avete già avuti un paio prima e seconda decade sono nati in gennaio nei primi nei primi dieci giorni di febbraio tutte le persone che hanno dei valori importanti in acquario da 0 a 19 20 gradi questo per spiegarvi quando una co perché certe volte una cosa sembra riprendere poi ripassa saturno il motore trogato e finisce inesorabilmente perché se non lo vogliamo capire noi ce lo fa capire lui quindi anni di grande selezione quella è l'astrologia di grande maturità di responsabilità magari non è un periodo proprio spensierato come il carnevale di rio l'astrologia evolutiva vi fa prendere una responsabilità in più cioè vi chiede tutte le problematiche che saturno vi ha portato dal 18 dicembre 2020 a oggi cioè il 18 dicembre 2020 il giorno in cui iniziato il transito di saturno in acquario tutte le problematiche che vi ha portato sono il riflesso di quanto avete immesso nella vostra vita in termini di pensieri parole opere e omissioni che quelle forse sono quelle più pesanti no omissione perché ci fa proprio lavare le mani delle situazioni quindi la responsabilità per tutte le problematiche per tutte le dinamiche che si sono verificate di dire di chiedervi cosa perché mi è capitato questo che cosa mi sta dicendo questo transito che cosa mi sta insegnando quindi nell'ottica che quello che ci capita non sia una cosa casuale la colpa non è degli altri ma ci sta facendo vedere qualcosa di noi che non abbiamo fatto bene allora questa è l'astrologia evolutiva e quindi con saturno sull'ascendente avete avuto mercurio retrogrado la settimana scorsa dal 14 febbraio riavrete mercurio sul sole e su saturno impiegate queste due settimane in cui mercurio è ritornato indietro in capricorno raggiunge plutone che è il pianeta della trasformazione raggiunge venere le questioni sentimentali e si incontrerà anche con marte usate queste due settimane per guardarvi con onestà dentro e fare un bilancio di tutte le responsabilità che non vi siete presi o nell'ultimo anno o anche magari in precedenza dipende da che cosa il karma che cosa il destino vi ha riportato indietro negli ultimi tempi con tutti questi pianeti retrogradi e risolvete cioè cercate dedicate queste due settimane a cercare di sistemare con onestà rettitudine responsabilità e selezione quindi no proprio con comportamento consono ed etico tutte quelle questioni che si ripropongono siccome gli acquario sono un attimino sregolati insomma le piace vivere un po sul crinale sul filo del rasoio amano il rischio insomma non fanno tutti fanno dell'etica questo standardo questo pallino tante cose l'acquario se le butta alle spalle cercando di non pensarci fa tipo willy il coyote fa il fumo e se ne va in realtà purtroppo quello che noi buttiamo nel passato non si discosta non si distacca mai da noi a livello proprio energetico di intenzioni e ci rimane appeso dietro come uno zainetto affinché noi non lo guardiamo accettiamo ci prendiamo le nostre responsabilità perdoniamo dove dobbiamo chiedere perdono scusiamo dove dobbiamo farlo chiediamo scusa sistemiamo un po le cose in maniera responsabile adulta che è una cosa che all'acquario viene chiesta lo so che non vi piace ma viene chiesta con grande responsabilità con grande intensità perché avete il dodicesimo settore in capricorno no quindi il vostro inconscio deve essere rigoroso con voi stessi e poi con gli altri siccome non avete voglia fondamentalmente se il malessere che provate in questi giorni le nostalgie le cose rimpianti con tutti quei pianeti retrograti nel dodicesimo settore adesso che è arrivato anche marte il succo e che vi dovete proprio far forse far aiutare veramente far aiutare perché tutta la mole di messaggi che mi arrivano insomma mi fanno pensare che molti non abbiano fatto un lavoro come dire di consapevolezza e ragazzi purtroppo fare una chiacchierata con un terapeuta non ha mai fatto male a nessuno perché in piccola e grande scala chiunque a cose non risolte blocchi paure tutte cose che se diventano troppe condizionano il reale diventano fobia sociale non si fanno cose per paura per impegni e la vita diventa asfissiante e spesso i ritorni di saturno sul sole e ascendente chiedono una presa di responsabilità e un dedicarvi a voi stessi a tutte le cose che non avete fatto e risolvere tutte le cose che non avete fatto soprattutto interiormente chiede la richiede la terapia ragazzi non fate mi sto curando da solo se non ho problemi di cuore non si cura da solo se non c'è problemi c'è un ernia non si cura da solo e quindi se una persona ha bisogno di fare chiarezza nella propria vita ha bisogno del testimone esterno c'è una persona che rimandi soprattutto all'inizio del percorso perché poi nel risveglio bene o male quando si è molto avanti si vedono da proprio si vede quello che si combina ma all'inizio ci vuole proprio una persona che inflessibilmente rimandi tutte le cose che noi facciamo della nostra con la nostra parte ombra c'è la parte quella istintiva immediata e che poi quella che fa il karma che fa i danni e che non vediamo non vogliamo vedere insomma a seconda del livello di dormienza della coscienza ricordatevi che ci sono cinque livelli tra il coma profondo della coscienza e il risveglio quindi ci sono cinque fasi intermedie a seconda di quanto è incasinata la nostra vita si può capire a che livello di risveglio siamo cioè se ci capitano se troviamo persone che ci dicono cose che ci accusano magari no se ci arrivano sempre le stesse contestazioni e noi diciamo questi sono matti beh ragazzi se le cose succedono con una certa frequenza vox popoli vox dei cioè l'idea che magari abbiate qualche responsabilità anche se proprio non vedete dove il dubbio no ma chiacchierata con qualcuno fa sempre bene questo ve lo dico semplicemente per la valanga di messaggi che ricevo dove innanzitutto fate come vi pare tipo so che non rispondo in privato ma io intanto ti scrivo sette pagine di libro ragazzi questo è uno di quei comportamenti che saturno sul sole sull'ascendente sulla luna non non richiede perché perché vi richiede etica e responsabilità ok governate governate il vostro ego è vero che siete delle persone eccezionali è vero che siete delle persone super dotate avete un sacco di di talenti però leggo poi quando ci crede troppo perde no sfugge di mano e fa magari più 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 danno che utile quindi una ridimensionata della personalità affrontare dell'ego e un lavoro proprio sull'osservazione sull'umiltà e prendere le responsabilità delle cose che accadono facendo sempre vostra una regola che è veramente risolutiva nel karma non fare agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi io credo che per l'acquario ascendente acquario luna in acquario con il ritorno di saturno quadrata urano su sole ascendente luna sia la la regola aurea quella che risolve veramente la vita semmai dovesse decidere che il vostro malessere è gestibile e quindi magari non serve chissà cosa però abbiate sempre cura di voi perché spesso vi trascurate e mezzo sana in corpo rosano perché è importante quindi questa settimana e la prossima cercate di sistemare tutta una serie di situazioni perché sennò la luna nuova porterà certo punto che basta mi ribellione e insomma sarà una nuova quadrata urano dove si trova ora nel quarto settore famiglie e magari se ci sono degli assetti precari in famiglia uno veramente può creare delle tensioni delle separazioni quindi responsabilità saturno vuole questo da voi un grande bacio mi scuso se mi sono dilungata fatemi sapere nei commenti non mi scrivete email lunghe come la bibbia non le leggo e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci cari amici dei pesci e dell'ascendente pesci voi avete giove sul sole ascendente anche luna no che ha luna in pesci soprattutto i pesci pesci luna in pesce ascendente pesci della prima decade avete giove quindi molti di voi si trovano in uno stato di grazia avete lavorato molto su di voi soprattutto l'estate scorsa con il precedente ritorno di giove adesso con marte in capricorno con tutti quei bei pianeti in capricorno state vi state attivando tantissimo questo momento di grande affiatamento non è certo un momento di solitudine si sa che il pesce ogni tanto si ritira scompare fugge questo è un momento di coesione di unità se si stanno se vi state riaffiatando molto con una cerchia di amicizie questo è questo transito potrebbe potrebbe spiegarlo se sono ritornate delle amicizie dal passato degli ex compagni di scuola con tutti questi pianeti retrogradi ex colleghi con cui vi state ritrovando oppure se lavorate in un team con dei colleghi questo è un momento diciamo di fermento anche di selezione forse qualcuno va via ci sono dei dei movimenti degli spostamenti ed è sicuramente questi spostamenti e questi movimenti in qualche modo vi vi giovano cioè in qualche modo vi vi alleggeriscono del lavoro forse arriva qualcuno ritorna qualcuno che vi aiuta se siete degli sportivi o siete degli studenti e quindi avete la classe o una squadra magari è mancato qualcuno per il covide per queste situazioni qui per ma anche per le situazioni più disparate magari ci sono stati degli allontanamenti voi stessi siete stati magari in un periodo ritirato e adesso con questo marte nell'undicesimo settore in se stile a giove in pesci c'è proprio questa vita di gruppo colloquiale questo questo momento molto intenso che si sta verificando e durerà sicuramente poi ovviamente durerà fino al 7 marzo ovviamente ci saranno dei chiarimenti delle situazioni delle questioni anche rimaste in sospeso dal passato che si ripresentano ma molto probabilmente qui una delle novità è anche o qualche trasferimento trasferimento di lavoro trasferimento di ufficio magari dovete fare un tragitto più lungo più breve insomma c'è qualche modifica per quanto riguarda proprio gli spostamenti il tragitto il team la scuola forse avete state cambiando scuola c'è proprio un cambiamento anche perché è un cambiamento positivo assolutamente positivo oppure forse voi avete chiesto un trasferimento e state aspettando l'esito se avete chiesto un trasferimento l'anno scorso con il precedente ingresso di giove in pesci che è durato dal 14 maggio al 30 luglio allora siete rimasti sicuramente bloccati a causa di urano le notizie i trasferimenti arrivano adesso no quindi questo è un è un momento proprio anche di di spostamenti di intensità se siete degli studenti se siete degli studenti di ogni ordine grado o se lavorate insegnamento o nella comunicazione da adesso ci sarà un ottimo momento fino al 7 marzo veramente positivo per fare gli esami per fare per fare prove scritte orali di qualsiasi tipo c'è veramente questo trigono urano marte con venere e quant'altro molto positivo che se eravate rimasti bloccati anche nello studio anche all'università anche agli esami se avete ripetuto una classe sappiate che c'è questo grandissimo sono queste grandissime soddisfazioni il consiglio è guardate ragazzi di strafare veramente strafate cercate di di fare tutte le prove tutti gli esami se avete dei concorsi veramente entro il 7 marzo non che poi giove vi volte le spalle voi fino al all 11 maggio avete giove nel segno quindi la fortuna la protezione non ve le toglie nessuno e poi per pesci ascendente pesci e luna in pesci di terza decade giove tornerà sul vostro sole anche dal 28 ottobre fino al 20 dicembre quindi voi avete anche un richiamino una fase abbastanza fortunata nella nella seconda parte dell'anno anche se secondo me il grosso la parte più positiva è veramente adesso fino a maggio quindi dicevo concentrate tutte queste cose legate agli spostamenti e viaggetti agli esami alle domande all'invio di curriculum al fare concorsi insomma qualsiasi cosa le comunicazioni anche le questioni burocratiche iniziatele adesso e cercate di concentrarle fino al 7 marzo poi ci sarà una fase diciamo di sospensione come di incubazione perché perché le energie pianeti ci saranno stellium in acquario neutro diciamo che servirà un po a sistemare le cose più interiormente che a livello pratico non sarà come una fase di interiorizzazione così di riflessione per per sistemare le cose per capire come procedere e poi il momento nuovamente positivo di grande azione di surplus quello si ripresenterà dal 25 aprile dal 25 aprile al a fine maggio credo ragazzi se volete avere particolari delucidazioni proprio su questa data c'è il video di giove in pesci segno per segno andate a controllare lì perché veramente do tutte le indicazioni quindi questo momento di sicuramente un momento molto intenso un momento di di grande di grande lavoro la luna ci sarà una luna nuova il primo febbraio che invece una luna nuova non di lavoro non di ma la nuova tipo psicologica interiore forse di di maturazione è una luna nuova in acquario che si congiunge al sole e soprattutto a saturno signore del karma e quindi porterà una sorta di di bilancio una sorta di consapevolezza una sorta di non lo so di presa di coscienza anche di presa di responsabilità è un momento di di crescita un momento anche di volendo di illuminazione e probabilmente potrebbe arrivare anche attraverso qualcuno che vi guida che che vi spiega delle cose che vi illumina oppure siccome siete delle persone estremamente sensibili estremamente connesse con l'altissimo potrebbe arrivarvi anche un'intuizione anzi voi visto che siete figli di nettuno siete molto legati al mondo onirico no proprio i sogni fate dei sogni strepitosi no io ricordo delle persone dei pesci che mi raccontavano delle delle vere odissee notturne cioè veramente dei contatto con gli altri mondi quindi voi avete questo portone preferenziale per parlare con il vostro inconscio no e quindi questa luna nuova vi porterà una consapevolezza nonostante fuori insomma ci sia un grosso movimento e un grosso impegno questioni burocratiche oppure un lavoro ad un progetto un grande impegno per avere l'abilitazione le autorizzazioni per lavorare ad un progetto che forse avevate in mente tanto tempo fa tra il 2018 il 2020 che magari con la pandemia non si è potuto compiere no e quindi potrebbe ritornare adesso però in questa fase che è molto operativa c'è questa luna nuova del primo febbraio che invece interiore che vi fa avere questa coscienza questa presa di coscienza questa nuova direzione questa una sorta di maturazione no e e come se gettasse un uno sguardo sul futuro perché poi sarà dal dal 7 marzo al 25 aprile che queste cose queste intuizioni questo pensiero che voi avrete con questa luna nuova questa nuova direzione poi dal 7 marzo avrà un un focus esterno cioè avrà una realizzazione quindi tutto sta a capire questa grande rinascita che voi avete con giove e complice con questa luna nuova su saturno perché sempre il signore del karma quindi non è una luna nuova come tante anche se la nuova è molto forte ma non è neanche mai come tante vediamo dove vi porta quindi aspetto i vostri feedback aspetto i vostri riscontri dopo il primo febbraio vediamo che direzione prende e nel frattempo approfittate di questi transiti fortunati per sistemare tutte le cose legate alla comunicazione contatti trasferimenti anche con rapporti con i fratelli assolutamente i rapporti con i fratelli con i cugini insomma e con il vostro entourage quindi io vi aspetto un grande in bocca al lupo un bacio grazie per essere arrivati fin qui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti buona serata